Sarebbe carino poter dire, ah ok, lavoro soltanto quando ne ho voglia Magari, magari funzionasse così, però purtroppo non funziona così Oggi sono abbastanza alterato, non so come dire Perché arrivo da una serie di giorni in cui tutto ciò che poteva andare male è andato male E non è soltanto una o due cose, no no no, letteralmente è solo una serie di eventi Uno in fila all'altro, concatenati Che purtroppo mi hanno portato ad avere un umore non tanto positivo in questo momento Anzi, tutt'altro Però la live ha fatto lo stesso, e questo perché? Perché la carriera deve continuare, the show must go on ragazzi Purtroppo, tra molte virgolette, con il fatto che da queste live Poi ci ricavo dei video estratti, turbosintetizzati Di tutto ciò che accade durante le varie stagioni che facciamo con il Sweetroll Io ho bisogno di materiale, essenzialmente Infatti anche per quello che riguarda questa settimana La programmazione è oggi, che è martedì, EAFC 24 Stessa cosa domani, ma a partire dalle 7 e non dalle 8 Giovedì facciamo l'Eyes of P E poi venerdì facciamo di nuovo EAFC E questo perché ho bisogno di pubblicare il video Dedicato alla terza stagione, già nel weekend E tutto così, ultimamente tutto quanto un susseguirsi di incastri Fatti nel modo più arrangiato possibile Ma... 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 Purtroppo... Purtroppo tutto quanto assieme è arrivato Come cercavo di spiegare prima Di base Uno ha la sua vita Che è già piena di impegni In questo periodo mi stanno aggiungendo una serie di cose extra Che fino a tre mesi fa, due mesi fa non c'erano E che ora ci sono Mattia, dicevi la stessa cosa anche tre mesi fa Vero? Queste cose extra sono più ingombranti di quelle extra che avevo prima E quindi voi a questo punto potesse dirmi Sì, ma se c'è sempre qualcosa di extra Allora non c'è mai niente di extra Fair point Avete ragione Non so cosa dirvi Se avete problemi di audio, regà Perché vi va a scatti durante la diretta Sappiate che è un piccolo problema che ogni tanto YouTube ha E quindi Se dovesse succedervi Refresciatela live Quindi chiudetela e riapritela Teoricamente si fixa tutto Ok? Non è un problema dalla mia parte È un problema da parte Del server che gestisce lo streaming Quindi da me va tutto quanto liscio Ad alcuni di voi Questa cosa però si sminchia una certa Smette di funzionare come dovrebbe Mentre ad altri continuano ad andare normalmente Se invece vedete cose come Il video che va a scatti Le opzioni sono due O avete una connessione non adatta A guardare le live Con la qualità a cui le state guardando Oppure due È un problema mio che sto laggando Ok? Anche se dovessi laggare A un certo punto Che la live salta temporaneamente Di base Nell'arco di qualche secondo Torno Se non dovessi riuscire a tornare Nell'arco di qualche secondo In chat Solitamente Scrivo sempre Tutto ciò che non va Ecco Tutto ciò che non va Vi spiego Regà È crashato il pc Regà È saltato la corrente Tempo che si riavvia tutto E arrivo Roba di questo tipo Quindi state pure tranquilli Detto ciò Signori Salve Buonasera Spero che state tutti quanti bene Spero che avete passato un buon weekend Almeno voi Carriera con il city roll Allora Come ci eravamo lasciati Intanto magari Switchiamo la visuale Anche E magari mettiamoci a schermo Che dite Benissimo Allora Nella live di giovedì Quindi L'ultima live di EA FC 24 Dedicata Alla carriera Con il city roll Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo anzitutto Portato a termine La seconda stagione Di questa squadra In serie B Che si è conclusa Con il raggiungimento Del secondo posto Quindi Essendo arrivati ai secondi Cosa è successo? Siamo saliti in serie A E dopo essere stati promossi Dalla B all'A Abbiamo anche fatto il mercato Per la serie A E io lo so Che il mercato Che abbiamo fatto Farà imbestialire molti Ma Avvicinatevi un attimo Fatevene una ragione Ok? Nel senso Non esiste un singolo modo giusto Di fare la carriera Puoi farlo In maniera incredibilmente realistica Facendo soltanto Acquisti Verosimili Realistici Per la squadra Che vai a controllare Puoi farlo in maniera Completamente folle Comprando giocatori Che non hanno il minimo senso Puoi farlo in maniera Diciamo Organica Ok? Io definisco il mio modo Di fare carriere Come organico In che senso? Nel senso Che se nella mia squadra Abbiamo un paio di giocatori Che hanno un ovro All'intorno al 72-73 E tra gli svincolati Trovo un overall 75-75 Ci sta Lo prendo È un buon modo Per rinforzare la rosa Ovvio Magari non cambio Completamente la rosa Ma se ne prendo Uno Di quel valore Ci sta E la cosa Poi scala Ovviamente Se ho la squadra Con su di 55 Di overall Già prendere un 60 Sì volendo Si può fare Però se tutto il resto Il campionato Ai giocatori Intorno al 60 È un po' Too much Se un domani Mi dovessi ritrovare Anzi Quando un domani Mi ritroverò Con la squadra Che ha Un overall Medio Dei giocatori Intorno all'84 Se compro un 88 Non è sbagliato Se compro un 90 Non è sbagliato Purché Nella squadra Ci sia qualche 87 Qualche 88 È un upgrade Raga Dobbiamo migliorarla La squadra Non dobbiamo tenerla Sempre uguale Se il gioco Dovesse essere Tieni la squadra Sempre allo stesso livello Muoviti Come si muoverebbe Realmente questa Questa squadra State tranquilli Che rimarremo in B Per tutte e 15 Le stagioni O magari per 6 Ci facciamo un anno in A E poi riscendiamo Ok Mi sta bene Che voi Magari nel tempo libero Le giochiate così Le vostre carriere Ricordatevi che Stiamo creando contenuti Ed è un contenuto Non realistico Perché non ho mai Claimato di voler Fare la carriera realistica Quindi ricordatevi Questa cosa Bene Fatto questo gigantesco Lunghissimo Mega Rompiscatolmente E Ingombrante Preambolo Signori Questa è la losa Con cui ci ritroviamo Per il primo anno Di Serie A Abbiamo Pizzignacco In porta Dorval Che è stato spostato Da destra Sinistra Per far spazio A Cabo Re Preso a 0 Poi al centro I classici Cofler e Peters Il centrocampo è quello Dell'anno scorso Quindi Rover Tide Bernabembo Punte Dele Alli E Pedro Mendes Dall'Ascoli Che abbiamo comprato Anch'esso A parametro 0 Mio dio Tirlo e Smo A quanti parametri 0 Allora Fatemi spiegare Perché ho 5 Perché mi sono avanzati 5 milioni Allora Noi abbiamo iniziato La stagione Con Esattamente Circa 9 milioni A questi 9 milioni Abbiamo aggiunto Il milione 7 per la cessione Di Cagnano I 440 mila Per la cessione Di Lonardi Il milione 7 Per la cessione Di Pecorino E poi basta Perché non avevo Nessun altro da vendere Se non Papadopulos Che ci ha regalato Altri 2 milioni Per il resto Come potete vedere Gli stipendi settimanali Sono passati da Ora vi dico A quanto ammontavano Gli stipendi settimanali Al termine Della scorsa stagione Giusto perché Possiate farvi Un'idea Effettivamente Di Come Gli ho aumentati Ora ve lo faccio vedere Quindi Qui 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 No Qui Ok Gli stipendi settimanali Non me lo dici Non lo so Però sappiate che Gli ho aumentati Tutti quanti Di base Fino Alla stagione Di serie B Gli stipendi Arrivavano Massimo Ai 3 mila Ora Gli stipendi Arrivano anche Fino a 25 mila Il motivo Per cui abbiamo Contratti di questo tipo Adesso che abbiamo fatto Il salto Dalla B Alla A È che Realisticamente Se dei giocatori Si ritrovano a giocare In una squadra di A Pretendono un contratto Più alto E allo stesso tempo I giocatori che vai a comprare Tra gli svincolati Pretendono un contratto Più alto E se tu dai 20 mila A Cabo Re Stai tranquillo Che Bernabè Poi si incazza Se guadagna Soltanto 4 mila E quindi devi E quindi devi riadattare I contratti Di tutti quanti E questo è quello Che ho fatto In questo momento Poluzzi Guadagna 2k Poluzzi L'anno scorso Il mio giocatore Più pagato Era Dele Alli Guadagnava 8 E sotto Dele Alli Credo ci fosse Proprio Bernabè Che guadagnava 4 mila A settimana È normale No Nel senso La squadra Ha fatto un salto In avanti E facendo un salto In avanti Tu devi adattare Anche tutti quanti Degli stipendi Quindi adattando Gli stipendi Mi sono mangiato Praticamente tutto il budget Ora mi sono avanzati Circa 5 milioni Con i quali Ho provato a prendere Un centrocampista Non ce l'ho fatta E quindi Alla fine Il nostro mercato È come l'abbiamo concluso Abbiamo Per l'appunto Venduto Cagnano E Lonardi Abbiamo preso Caboret A zero Thurison A zero Che è un Esterno Islandese Che viene a fare Da quarto centrocampista Che mi giochi Sulle fasce Abbiamo preso Pedro Mendes Abbiamo venduto Pecorino Abbiamo venduto Papadopoulos Abbiamo preso Marvel a zero Basta L'unica cosa Che ci mancherebbe Per completare la rosa Sarebbe un centrocampista Centrale Che però no Perché io ho provato A prendere Qualche centrocampista Ho provato a prendere Sissoko Ho provato a prendere Marin Ho provato a prendere Caceres Ho provato a prendere Agumé Non ce l'abbiamo fatta L'idea sarebbe stata Andare su un nome Come Valotti Ma non me ne faccio Niente di Valotti Volevo un nuovo Centrocampista Titolare C'era Saul Ninges Che era libero Fino a due giorni fa Ora è andato Al Mönchengladbach Non funziona così Su FIFA Ne riparliamo poi Allora È vero che non funziona Quindi è vero FIFA non ti obbliga Ad adattare i contratti Quando passi Dalla B Alla A Però questa cosa Avviene lo stesso Perché Andando ad aggiungere Dei nuovi elementi Alla rosa Questi pretendono Di essere pagati Come giocatori di serie A Non come giocatori Di serie B E gli altri giocatori Che ha in rosa Poi Vedendo quello stipendio Sono molto più incazzati Ed è una cosa Che effettivamente Succede Queste Queste Soprattutto Ed è una cosa Che effettivamente Succede Questa Perciò Tutto quanto Il nostro budget È andato lì Ok Questo è un po' Il discorso Bene Possiamo andare a giocare Sto parlando A Vanvera da un po' Comunque Nella scorsa live Raga Abbiamo semplicemente Fatto mercato Ed è stato un mercato Composto principalmente Da svincolati Perché non avevo soldi Per comprare Fisicamente nessuno Credo che il nostro Primo vero colpo Lo faremo il prossimo anno Qualora dovesse avere Un budget buono Ma non è detto Per quello che riguarda Quest'annata Io in realtà Di mercato Non credo di volerne Fare altro Perché mi sarebbe piaciuto Prendere qualcuno Da fiancare a Bernabè Lì a centrocampo Ma non ho trovato Nessuno che fosse Più forte di Tait O comunque Abbastanza Più forte di Tait Tanto da giustificare Il panchinamento Del capitano E quindi Primo anno così Ok Il primo anno In Serie A Ce lo faremo con questa rosa Non andremo Ad acquistare Nessun altro A meno che Non mi si rompa Un centrocampista Anche se Tocchiamoci ovunque Perché speriamo Che questa cosa Non accada Anche quei prestiti Ci ho provato Non c'era nessuno Di buono L'unico decente Era Ndur Ma Ndur Non sono riuscito a prenderlo Il Paris Saint Germain Voleva che io pagassi Voleva che io pagassi Tipo 30.000 di stipendio Andur Io No grazie Comunque In estrema sintesi Mi rendo conto Che questa squadra Non sia La migliore possibile Ma è stata O meglio Sicuramente Con 9 milioni Mi sarei potuto Buovere meglio Il problema è che Non avevo nessun giocatore Decente da cedere E quindi Se hai 9 milioni Ne possiamo aggiungere Soltanto praticamente 2 Ci ritroviamo con 11 milioni E di questi La metà viene spesa In adeguamenti Di stipendio Poi parte Li dai A dei nuovi giocatori Che prendi a parametro 0 Come lo è Caboret E come è Pedro Mendes E poi ti ritrovi A provare a fare un acquisto Che però non riesci a fare Quindi Ehm Questa sarà la nostra formazione Per il primo anno di A Io personalmente Sono abbastanza fiducioso E sono piuttosto convinto Di riuscire a raggiungere Una salvezza tranquilla Ma Sappiate che Ho mentito E in che senso ho mentito Il titolo della live È Facciamo il nostro esordio In serie A In realtà Il nostro esordio L'abbiamo già fatto Abbiamo giocato Due partite Nella scorsa live E di queste Una l'abbiamo giocata Fisicamente Abbiamo pareggiato 1 a 1 Contro il Bologna L'altra L'abbiamo simulata rapida Abbiamo perso 3 a 2 Contro il Monza Quindi Detto questo Signori Direi che abbiamo Chiacchierato Più che a sufficienza Siamo pronti Per la prima partita Della serata Venezia Contro Suttirol La squadra titolare Non è la migliore Forse possibile Che uno può avere Alla terza stagione Ma è la migliore Per me Quindi ora Giochiamo col Venezia Farò mercato A gennaio Guardate Se riesco a prendermi Qualche Qualche giocatore A prezzo stracciatissimo Sì Se riesco a prendere Il centrocampista nuovo Se no no Nuama quando torna Sta tipo Un paio di Mesi Un paio di mesi Sì E signori Buonasera Benvenuti al Penzo Ah in tutto questo Io non vi ho detto una cosa Ho sistemato I piani di allenamento Per tutti quanti i giocatori E ho anche sistemato I numeri Off camera Off camera Occhiolino Occhiolino Pierini Rientra sul sinistro Pierini Bravo Kofler Bravo anche Caboret Mia mia Punizione Punizione Perché ho tolto Bellingham in realtà Non ha mai giocato Titolare Bellingham è sempre Stato la prima riserva Praticamente nel primo anno Già l'anno scorso Ho preso Bernabè Perché Bellingham Non stava salendo per niente Bernabè Dentro per Pedro Mendes Buono pallone per Lex Ascoli Che prova il pallonetto Facile per Bertinato A che difficoltà gioco? Campione con qualche slider modificata Se volete sapere che cosa L'ho messo nel video di oggi Non ricordo a che punto Così come per quello che riguarda Le grafiche Le impostazioni delle grafiche Trovate tutto lì Errore di impostazione di Peters Che regala palla al Venezia Pierini si addormenta Col pallone al piede Boop Patè presato da Burger Fra ma c'è un giocatore Che si chiama Burger Meh C'ho fame E voi direte Tier ma non mangi Prima di andare in live Di solito Sì Ma sono nervoso E quando ho nervoso Ho fame io Hubs fino in fondo Il giocatore del Suriname Ancora Hubs Cross il secondo palo Arriva un boop Di testa Fate un boop Bernabè Adrian ma che cazzo Ma che cazzo fai Bravo Bernabè Che pressa Candela Non riesce a recuperare palla Mi incontro di rimbalzi Prima esperienza da fuori sede In bocca al lupo Riman Sempre bello Io nei primi tempi Mi arrangiavo con i pasti precotti Da cacciare in microonde Poi pian piano Inizi più o meno ad arrangiarti Ti compri i primi pezzi di pollo Le prime cose Sarà divertente Ma il pollo perché lo trovavi Tipo 80 centesimi Al pezzo E ne prendevi due Lo pagavi 1,60 euro E pranzavi con quello C'è da dire che in Irlanda Costava una sega la carne Costava molto di meno che qua Burger Pierini Opportunità per il Venezia Che adesso si allarga Con Biarkason Cross in mezzo Di ritorno da Burger Pizzignacco C'è Un boop Imbeccato da Pizzignacco Pedro me Pedro Mamma mia che brutta Partita del sud Tiro Sporchissima Non riesce a fare nulla Di decente Brian Cross in mezzo Peters c'è La prende Pizzignacco Ma in Irlanda Raga Non si mangia male Cioè non hanno una cucina tipica Loro Molto Gustosa Non so come dire Non è che abbia dei gusti particolari Hanno una serie di stufati Di zuppe Tante patate Tanti Tanti cavoli Per dire Cose che crescono bene o male Con qualsiasi Temperature In qualsiasi condizione Però è buona Tanto riso Ovvio che mangi più variegato In posti come questi Non mangi sempre Soltanto tipico Non è come in Italia Che puoi fare una dieta Interamente mediterranea E mangi Abbastanza variegato sempre No Lì devi inserire anche altre cucine Ma si mangia bene Adrian Bernabè Dal limite può pezzare Il mancino Bernabè Ci arriva Il portiere del Venezia Di cui non ricordo il nome E ora Bernabè Dalla bandierina Sinistra di uscire Verso la testa Di Pedro Mendes Pallone alto Peccato però A fine primo tempo Per giunta Mamma mia Che brutto primo tempo Mamma mia Che brutto primo tempo Che abbiamo giocato Speriamo che il secondo Vada meglio Pedro Bravo Pedro Mendes Fatemboop Accenta da Pedro Mendes Dentro per delle alli Delle alli Fra pensavo che Haps Tagliasse contro Maffanculo Sì Succede anche a me Luca Ho testato E si bugga pure a me Haps Cernigoy Per Pierini Interviene Peters Vince Rimpallo Pierini Ma poi interviene di nuovo Peters Issa Caboret Tocca il suo primo pallone Al cinquantacinquesimo minuto Alleluia Frate Ancora Caboret Caboret Torna all'indietro Rover Tite Prende la mia capitano Calcia Tite Ribattuto dalla difesa del Venezia Che poi va in contropiede con Briand Biarkason È in posizione regolare Pierini Ma non viene servito dal 19 Ancora Biarkason Ora dentro per Briand Biarkason Vada Pierini 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 col destro Stortissimo Mamma mia Che bruttura Devo assolutamente fare dei cambi Perché questa squadra Non c'è di testa Bravo Tite Col doppio recupero Ora Dele Alli Dentro per Petro Mendes Da solo contro quattro Non sfonda Petro Mendes Peccato Ciao Manu Ciao Manu Allora È il momento dei cambi Fuori il capitano Dentro Bellingham Fammi provare questo Thorison Mi ispira da matti L'islandese è dentro Per Mbup Per il momento ci siamo Fuori Torval Dentro Davy Oh ma statemi lontano Che cazzo pressate Fra Rover Perde le Alli Jude Bellingham Non è Jude E Job Ho sbagliato il nome Job Via Arcason Bravo Capore Grattina anche dentro Poi serve Matteo Rover Va via Haps Ancora Matteo Rover Spinge sulla destra Non c'è nessuno Da accompagnarli In mezzo all'aria Allora rallenta Torna l'indietro Da Joe Bellingham Non riusciamo a fare due passaggi in fila Poi Ampalo Poi Ampalo Va in mezzo Interviene Bernabè Bravo Adrian Bernabè Pedro Mendes In verticale C'è Care Thorison Palla per l'islandese Si gira su se stesso Il numero 29 Da Bernabè Per Rover Matteo Rover Incrocia col destro Rover Traversa fuori Porca troia Vicinissimi a quello che sarebbe stato Un immeritatissimo vantaggio Non per quello che ha mostrato il Venezia Ma per il poco che abbiamo mostrato noi Sono Regà Alla terza giornata Diciassettesimo Che vi aspettate Dentro Merkai Franculino Biarkason Dentro per Poi Ampalo Gran palla di Biarkason Poi Ampalo Va col destro Stortissimo No no Lo svincolato Teoricamente può giocare Sin da subito Gaccialo Forse il giallo Telealli con l'insedimento Telealli Allarga per Matteo Rover La deve tenere dentro Il numero 18 E ce la fa Anche se ha il pelo Rover Fra ma che merda è Bro ma che cazzo Che cazzo Forison va via Candela In profondità Cercare Silvio Merkai Invece serve Dele Alli Dele Alli Fino in fondo Dele Ce l'abbiamo ancora noi Silvio Merkai Franculino Sicilia Franculino Franculino col destro Il miracolo di Bertinato L'amorosa parata Dell'estremo difensore Del Venezia Regà ma che cacchio Di parata fa Ma guarda che parata Ma dai ma per piacere 93esimo Calcio d'angolo Dele Alli Sul pallone A cercare in mezzo La testa di Silvio Merkai Interviene a difesa Del Venezia Che poi mette fuori Peters Calcia in porta Mano E niente Invece l'arbitro fischia a fine Venezia 0 Su tiro il 0 Peccato perché ci bastava Quel piccolino in più Piccolino cosa poi Il mio pipotto è piccolino Quello sicuro Bruno Bertinato È un 62 E mi ha fatto quella parata Complimenti frate E niente È andata male Niente Niente O comunque Non vorrei dire Siamo comunque Davanti all'Atalanta Nonostante tutto Siamo davanti all'Atalanta Davanti all'Udinese E davanti al Genua Fico eh No me lo son perso Il pezzo di lore Tre giornate Ancora non è arrivata Una vittoria Forse il Pisa No ma anche il Pisa Ah tra l'altro Strategia squadra Lo si Ecco Sapete cosa potremmo fare Con quei 5 milioni Forse assumere Dei nuovi preparatori Posso farlo? Posso farlo? Oh Incredibile Allora Andiamo a cercare Un centrocampista Bravo Guarda il signor Yuta Nishimura Vai 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 Prendilo Poi Prendimene anche uno Per la difesa Ah ho un massimo Di slot preparatori Vabbè ma questa cosa È una bullshittata Se permetti Va Che cosa stupida Vabbè Non capisco Perché tu non possa Assumere più preparatori Di quelli che già hai Lo trovo proprio Ridicolo Però forse Dipende da Dal Dal tipo Di idea Tattica Che vuoi attuare Questo ancora Non l'ho capito Non mi pare Boh Makes no sense Man Allora io Non vi vorrei Allarmare Ma se battiamo Il Pisa Superiamo L'Inter In campionato Vabbè dai Giochiamo col Pisa Pisa che tra l'altro È finito qui Per sbaglio Perché soltanto Battendoci All'ultima giornata Dello scorso campionato È arrivata ai playoff E poi ha vinto I playoff Per arrivare fin qui Quindi c'ha avuto Un buco di culo Grande così Il Pisa E bentornati Aldruso Che fico No comunque Sono curioso Sono curioso Ture Dentro Permoreo Palla alta Minchia Dipende dalla squadra Eh ho capito Forse Più è In avanti la squadra A livello di reputazione Più puoi assumere Lo trovo stupido Comunque Caboree Per Fabian Tite Bravo Fabian Tite Che allarga Per Rover Caboree Per Dele Alli Palla dentro Per Bernabè E col destro Paratona Del Portier Lo stesso Bernabè Ora dalla bandiera C'è che è in mezzo La testa di Dele Alli Che svetta Gloria ancora presente Colpo di testa Violento Fra No beh Se la riscrive La leggo Bravo Rafi Mi è piaciuto Mi è piaciuto Mi è piaciuto Mi è piaciuto Vignato Dentro per Sibilli Gran palla per il 14 Sibilli Dribbling Calcia Pizzignacco C'è E poi Peters E il Vabbè Non so come Abbiamo fatto Ma va bene Matteo Rover Cambio di gioco Alla ricerca Di Patemboop Gran palla Di Rover Deve tenerla Un boop Ce la fa Il numero 10 Ancora Un boop Fermato De Steves Che merda Canestrelli Fra Buoni Canestrelli Ne voglio Uno Adesso Ma ripeto Io sono nervoso Potrei mangiarmi Qualsiasi cosa Stupido Non io Che gli ho lasciato Spazio Lui Rover Cabore Palla larga Proprio per lui Issa Cabore Sul secondo palo Da Pete Sì vabbè Mbup Medi Dorval Rientra sul destro Fermato da Ross Ancora Dorval Patemboop In profondità Cercare Dorval Fino in fondo Il franco algerino Rientra sul destro Dorval Dorval ancora Dorval Prova l'Euro Gol Pallone alto Comunque Chat in tutto questo Ma io ve l'ho ricordato Di smasciare like Alla live Di iscrivervi Ma soprattutto L'ho ricordato A coloro che ci seguono Da Tearless Live Di smasciare like Anche al VOD E di iscriversi Al secondo canale Che è quello Dove ricarico Tutte quante le live Che faccio sul primo canale Eh Stratopico Buone tanto L'apertura Di Dorval Per Rover Contro cross Per Fabian Tite La mette giù Tite Che poi calcia col sinistro La tocca di mano E Steves Invece no Lascia correre l'arbitro Torval Di tacco Bernabè Tite Tite Apre per Rover Tocca corto La cabone Ma sbaglia tutto Telealli Fuck me Le verb Sibilli Comunque sì Ragazzi Iscrivetevi al canale Mi raccomando Smasciate like E vi ricordo Che se volete Vi potete anche abbonare Eh Marin Col mancino Pizzignacco Mamma mia Samuel Che giocatore Vignato Destro in mezzo Interviene Sopra tutti quanti Rover Le verb calcia Ribatta ancora Lo stesso rover Beghetto Le verb Verticalizza da Vignato Spazio per calciare le 23 Invece si appoggia Da Moreo Bravo Peters Vignato Destro all'entrare Troppo sotto Esce bene Pizzignacco Che poi lancia Addirittura di braccio Patemboop E' partito un boop Che davanti a sé Solo è Steves Mamma mia Ragazzi Non riesco a fare un cazzo Oggi Devo comprare Delle scarpe da calcio Quali mi consigliate L'Equipsta Pog E grazie Alberto Un bacione Thank you Giga cuoricioni Grazie mille Per la sappe Pegotti Premium Regà ne approfitto Di questo piccolo momento Per ricordarvi una cosa Io vi ricordo Che se mi volete supportare Oltre a Il classico Lasciare like Al video Iscrivervi al canale E quant'altro Vi potete anche abbonare Abbiamo due livelli Di abbonamento Il livello basi Chiamato Pepegotti Con il quale avete Il badge abbonamento L'emoticon del canale La possibilità di riguardare I VOD direttamente Dal canale principale Tearless Raptor Senza dover aspettare Il re-upload Su Tearless Live E In ultimo Anche la possibilità Di accedere Al server Discord Che trovate linkato In fondo alla descrizione Dopodiché Per coloro che fanno La sappe Pepegotti Premium Con il buon Alberto Ossia quella da 5 euro Oltre a tutte queste cose Avrete anche La possibilità Di partecipare ai subday E di questi Ne faremo uno Appena possibile Vi giuro che Appena un po' di tempo Nella programmazione Lo faccio E la possibilità Di votare Alcuni elementi Di alcuni video Ad esempio Il video che è uscito Nel weekend Di NBA 2K È stato selezionato Dagli utenti Fico Fichissimo Ma Rimani Sai che non li vedo Non mi appaiono O li hai scritto Tante volte prima Perché se sono messaggini lunghi Non me li manda Perché non li vedo E la gioca e serata Tornerà sicuramente Alberto Sicuramente Sto facendo Una fatica bestia Comunque Oh che lentezza YouTube mi raccomando Allora Fanculo Sto facendo Una fatica Incredibile Comunque A creare Delle azioni Decenti Qua in serie A Eppure Le squadre Che ho affrontato Non sono così forti Il Venezia Il Pisa Cioè sono squadre Più che affrontabili Quindi boh Una famiglia importante Per la storia di Bergamo E la casata dei coglioni Nello stampo Aveva una famiglia Aveva tre scroti Come simbolo E con leoni Ok 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 Però si sono comunque palle Comunque sono sacche Scrotali Bellissimo E certo che vado a cercare Scherzi Non dovrei Tight Verticalizza Per Caboret Dentro delle alli Sigila il numero 20 Chiuso dalla difesa Sì Probabilmente L'hanno cambiato Per quello Rover Cambio di gioco Dalle ricerche Di Medidor Valla Mette giù il franco algerino Si appoggia In mezzo da Bernabè Mezza a quattro Non ne esce Boil Marin Hanno un sacco di spazi I giocatori del Pisa Tauda Ti amo Tauda Pedro Mendeci Non riesco a segnare È la terza partita Che gioco proprio Attivamente Ho fatto soltanto Un gol Finora Tra l'altro Con un rimpallo Fortunatissimo E non è che abbia Giocato contro Squadroni Anzi Giocato contro Il Venezia Il Bologna Il Pisa L'unica squadra buona È il Bologna Qua dentro Eccolo qua Vantaggio Pisa Invece no C'è Pizzignacco Pate Mbup Gran giocato Di Mbup Che va via De Steves Mbup Ancora Mbup C'è Pedro Mendes Libro in mezzo all'area E non ha servito Nessuno Mbup Avevi quattro Opzioni diverse L'hai data Al nessuno Devo fare dei cambi Anche qua Ancora Mbup Davanti a sé Steves Lo ferma Ma che cazzo C'hanno Fategli l'antidoping A sti qua del Pisa Allora Boyle Cross in mezzo Peters Vai Pate Vai Pate Vai Pate Ancora Mbup Fino in fondo Mbup Dentro da Pedro Mendes Telealli Vaffa culo Se avessi tutti i soldi Del mondo Che farei Boh Mi comprerei una casa Sistemerei Le persone Che hanno bisogno Di essere sistemate Quelle vicino a me Poi do un botto Di soldi in beneficenza E lo so che è stupido Dire lo dico in tutti Ma è vero Dopo un tozzo E non sai che cosa Fartene con i soldi È l'unica cosa buona Che puoi fare Se ci pensi bene In effetti Sud Piss Vuol dire Sud e piscio Grazie Ele Molto gentile Matteo Robert Dalla bandierina Cross Secondo pallo Cercare Dele Alli Impatta Dele Alli Sulla linea Salva La difesa Del Pisa Rover Ancora Rover Rover All'indietro Da Raffi Kofler Calcia In porta Kofler Sul fondo Bellingham Per Pedro Mendes Di ritorno Da Joe Bellingham L'appoggio Al connazionale Delle Alli Delle Alli Per Matteo Rover 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 Oddio Dedrogateli Vi prego Ancora Rover In mezzo A cercare Marvel Non arriva Marvel Sulla palla Purtroppo Pedro Mendes Gran giocata Rover Pedro Mendes Ancora Franculino Tight Franculino Dentro per Rover In area Rover Rientra Pedro Mendes Non riesco a trovare Il varco per calciare Incredibile Franculino Tieni là Cazzo Niente Regà Un altro 0-0 È incredibile Non riesco a segnare Sono bloccatissimo Ho fatto un gol in tre partite Dall'altro con un rimpalzo Cioè Ho fatto un gol in tre partite Con un rimpallo Fortunosissimo Mi viene da pensare Che abbiano modificato qualcosa Anche se non so bene che cosa E che quindi Salto dalla B Alla A Renda il campionato Molto più difficile Ma non dovrebbe esserlo Se sto giocando Contro le neopromosse Che l'anno scorso Battevo 4-0 Quindi Boh E comunque E comunque Ci tocca giocare contro l'Atalanta Che è ultima Con zero punti Allora Abbiamo tre partite Nella prossima settimana Di cui Una contro il Napoli Una contro la Fiorentina E questa contro l'Atalanta Mi sa che devo giocare con un po' di riserve Mi sa che conviene E non faccio più E non faccio più l'errore Di avviare la partita Adesso Ho imparato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bye-bye. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amici della Lombardia sono a due eventi nell'arco di una settimana, nell'arco di cinque giorni, uno il lunedì 9 con Simo e con Dani al mattino di lunedì 9, mentre il pomeriggio di sabato 14 sarò a Como. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, però io non posso leggere, cioè... A me va bene tutto, ma non posso leggere il nome dell'attaccante dell'Atalanta. No, ok, è Raikov Avevo letto tutt'altro Pensavo fosse uno di quei nomi Molto bannabili Medidorval Scatta sulla sinistra In seguito da Rick Karstorp Ancora Dorval Cerca il cross Karstorp ribatte C'è i cittadini Posso dire che l'Atalanta però Ha una formazione terribile Ora capisco perché sono ultimi Con zero punti Ma no Franculino Bravissimo il guineano A vedere la co La corrida guarda al massimo Nulla di più All'arcon L'apertura Bravo Dorval Franculino Davanti a sei cittadini Ma serve invece Piuttosto Merkai Che la dà dentro Dà delle alli Ma c'è Foga Soprattutto Io devo capirla Quest'Atalanta comunque Perché non ha senso Ha in campo Gonzalo e Inassio Karstorp Berenguer Pasalic E una serie di Rigen e nomi randomici Chi è Erdiscraia? Ah Ah no Gli ha tutti in panchina Quelli buoni C'hanno Joao Fè Ma scusami Come fa l'Atalanta Ad essere ultima In classifica Se ha Joao Félix Perché lo tiene in panchina Perché sono degli idioti Tra l'altro Hanno pure Sopì Hanno Almusrati Che è un ottimo giocatore Hanno Deron Touré Atebor Carne secchi Sono dei deficienti Oppure stanno mettendo La squadra per il turnover Contro di me Perché faccio schifo È possibile Pasalic Dentro per Raikov Raikov Traversa Pensavo fosse gol Dell'Atalanta Assicurato Petro Mendes È un gran bel giocatore La più forte della B Non lo so Ma è un gran bel giocatore Petro Mendes Anche Irla Bello forte Bello cazzuto Bello bello Mi piace Berenguer Ancora in area Berenguer Vince un rimpallo All'indietro Per Rick Karstorp Invece non è Alarcon Vantaggio Atalanta Con Alarcon Non era Karstorp Regà ma che ne so io Di cosa è meglio comprare Per quale versione Meglio O meglio Quale versione del gioco È meglio comprare Cioè Dipende da quello Che avete Dipende da quello Che volete Spade Dipende da quale Console utilizzate più Bellingham Prende la mira Bellingham Pallone alto Telealli Per Caboret Ancora Issa Caboret Che cerca Rover Grandissimo intervento Di ciurato di Toloi Berenguer A dopo Craia gioca Sì però Cioè non ha senso Che me lo metti Il titolare Al centro del centrocampo Per giunta Franculino Verticalizza le cerche Di Silvio Mercai Chiude la difesa Con Cittadini Allora di nuovo Adalanta in avanti Räikov Gran tocco Per Karstorp Che è partito Sulla destra Alarcon L'autore dell'1-0 Ancora Alarcon Giocata Calcia col sinistro Pizzignacco In due tempi Diga Fa doppietta l'arcon E io non so dove sbattere la testa Alleluia, si sblocca Dele Alli 2 a 1 Franculino Serve Silvio Lemercai Si avvicina l'area di rigore Silvio Lemercai Silvio Lemercai La piazza sul primo palo Lemercai Mette in angolo Turk Palla in mezzo Cercare Dele Alli Ma perché ci sia sempre lui a staccare Non lo so Con Silvio Lemercai Che è molto più capace E solo per la statistica di elevazione Quanto vorrei poter scegliere i saltatori Mamma mia che palle Vabbè Tanto mi sembra tranquilla la situa oggi Ecco posso dire però che le grafiche della serie A Sembrano uscite proprio da Dal 2007 Guardando quelle di IAFC Cazzo dovrebbero un attimino ammodernarsi Così a occhio eh Perché non sono brutti Lo schema di quello mi piace però Franculino Dentro per Mercai Traversa Dele Alli Il pareggio del suo tiro Col kickoff glitch Ma che grandissima botta di chiappe Ma io non avevo messo il limite di 25 secondi Che è successo? Vabbè lo accettiamo Ah forse vale tanto per i non abbonati Karstorp Ancora di Karstorp Fino in fondo Serpentina Calcia con il sinistro Pizzignac in angolo Perenguer Cross in mezzo Medidorval di testa Pallone perfetto Si pidi di Bernabè Con Franculino che poi può scattare Franculino non ce la fa Perenguer Il tocco Sballato Allora Non ho mai giocato a Clash Royale Quindi non ho idea di che verso facciano Ma il paragone mi fa checcare Alarcon Grand dribbling In area Alarcon Calcia con il sinistro Pizzignac C'è Risponde presente Mette fuori Torval Bravo Bellingham Ad aprire per Franculino In realtà guardavo Gli spacchettamenti di Simo Quelli li guardavo Gli spacchettamenti si Franculino è cotto Torval pure E poi mi tengo Ryan Tyler Boop e Tide Per più avanti Pasalic Per Raikov Alarcon Karstorp col destro 3 a 2 Bel giro palla Della Atalanta E ora un pochettino Rosico Tauda 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 Pedro Mendes Casiraghi Daniele Casiraghi Vede lo scatto Di Dele Alli Lo serve Gran palla di Casiraghi Dele Alli Pedro Mendes Palla sul mancino Calcia Ribatte Ancora Pedro Mendes Ancora palo E vabbè Davi Bravo Simone Davi Per Pedro Mendes Bravo Peter Casiraghi 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 Tocca corto per Pedro Mendes Di ritorno da Casiraghi Pernabè Dele Alli Martin Turk Rover Ancora Martin Turk Ma non è possibile Dele Alli deve battere il calcio d'angolo Almeno non sta in mezzo a saltare Alli dalla bandierina Pedro Mendes Non riesce a girare Davi Apre per Casiraghi Bravissimo Casiraghi Ad andar via il suo uomo Casiraghi Dietro Pedro Mendes Calcia col Perché Perché In che senso Quali informazioni Cazzo van Dove cazzo vanno Ti prego Ti prego Ma che cazzo C'avete Dai Dele Alli Incoglioniti Yes 92 sul cronometro La tripletta Dell'inglese Che si sblocca Segna le sue prime tre reti In serie A E le fa tutte e tre In una partita Tra l'altro Si è anche fatto L'auto assist Vorrei farvi vedere Il mio doveva essere Un lancio per Rover Finisce così Finisce così Atalanta 3 Su tiro il 3 Grande Dele Che si porta a casa Il suo primo pallone Ma mio Dio Che partita sofferta L'avrei meritata L'avrei meritata io Questa E niente Continuiamo la nostra Pareggite Perché in 5 partite Di campionato Ne abbiamo persa Una sola 5 partite Di campionato 4 pareggi E una sconfitta Tra l'altro La sconfitta è arrivata Nell'unica partita Che ho simulato Però rimaniamo comunque E comunque il Pisa è davanti All'Inter In questo campionato Quindi sta succedendo Letteralmente Di tutto Ma io dico Ma allora A me va bene tutto Cioè io apprezzo Che FIFA Ti metta dei giocatori In squadre Un pochettino bizzarre Ma perché c'è Gundogan alla Fiorentina Gundogan Il Kai Gundogan Vai a bustare Il morale della squadra Grazie a tutti Per essere intervenuti Possiamo dare inizio Alla conferenza stampa Ok Va bene Ci siamo Squadra di buon umore Nuama ancora fuori Ma casilaghi è ricresciuto Ma che cazzo Non sto capendo Scendiamo in campo Contro la Fiorentina Formazione rivisitata Ma era necessario Purtroppo Come funzionano Come funzionerebbero Qui i subday Credo che Andrò Cioè Andrò a fare Tipo dei form Su Discord Andrò a condividere Dei form Che mi dovete compilare Poi a seconda di quello Che mi dite Andrò a fare Determinate cose E bentornati al Druso Suttiro il Fiorentina Ce la faranno i Bolzanini A vincere la loro prima partita Chi lo sa Partenza terribile Nico Gonzales A cercare Beltran Gran giocale di Beltran Che va via da Uda Peters In area Beltran Colmancino Vantaggio Fiorentina Al terzo minuto Bella merda Manca il tempo di cominciare Sono già avanti questi Dorval Corre Dorval Dentro per Rover Ancora Beltran Si appoggia a Gundogan Davanti a Simsir Simsir Che culo Dodò Su di lui Davi Gundogan Simsir Dentro da Beltran Pizzignacco col miracolo Realisticamente con 37 pareggi Ti salvi Bravo Reintaler Mano Tocco di mano Inventato da Reintaler Perché cioè Vabbè dai figa Rigore Rigore viola Nico Gonzales Contro Pizzignacco Centrale Nico Gonzales 2-0 Fiorentina E boh che faccio Non sono riuscito a far niente Mi stanno aprendo Bravo Bravo Patè Patè Mbup Salta Lasciando sul posto Martina Squarta Ancora Mbup Gira Gira Fabian Tite Certo che Tite contro Gundogan A centrocampo È una di quelle cose Incredibilmente esotiche Simsir 12 rimpalli Entra in area Simsir Colmancino fuori Napoli avanti contro Real Bellissimo Bellissimo Tite Grande Apertura Sventagliata Perfetta Sui piedi di Davy Simone Davy Mbup Vede l'inserimento di Bernabè E lo serve Gran palla di Mbup Bernabè Bernabè con l'esterno Accorce le distanze Di Südtirol Ma che gol Minchia Che pezzaccio Ma soprattutto Per l'azione Grandissima Palla di Mbup Bell tiro d'esterno Di Bernabè Primo gol in A Per lui 2 a 1 Per il Südtirol Cioè in realtà Per la Fiorentina Però ci siamo capiti Constantelia Samatucci Consales Bravo Rheintaler Mbup Serve Simone Davy Scende sulla sinistra Simone Davy Ancora lui Guarda di ritorno Mbup Patè Va via Dodò Ancora Patè Patè Sti diristorti Mi spezzano Ogni volta Joe Gomez Pressato da Pedro Mendes Rischia di perdere il pallone Dodò Constantelias Constantelias Buono Forlinson Gran palla Dell'Islandese Per Patè Mbup In area Mbup Ancora il numero 10 Mbup Mbup Messo giù Malissimo Dategli il rosso Fame Caccia il cartellino Arbitro Taglielo sto rosso Che se lo merita Invece solo il giallo Porca troia Capitan Tite Sul pallone Destro a giro Che può andare Sopra la barriera Gran botta di Tite Ci arriva Christensen Bernabè Palla fuori Cerca la testa Di Matteo Rover Che controlla Una sega controlla Colpisce No Max Meier Addirittura Pedro Mendes Di lui In pressione Che recupera La palla Costringendo Il terzino All'errore Poi Rover Sbaglia A sua volta Telealli Gran girata Palla Per Bernabè Bernabè Vince 12 Rimpalli Incredibile Serve Medidorval Cosa cazzo era Ma perché Ah ho pensato Che ho avuto Il quadrato Per sbaglio Beltran Constantelias C'è un buco C'è una voragine La difesa del Sud Lo vede Constantelias Vabbè Bell'errore Che sfiga La traversa Di Rover E quel tiro Fuori di Raintaler Mi sta qua Qua Bravo Tite Bravo Fabian Bravo Fabian Tinto per Mbup Gran palla Di Tite Per Mbup Forinson Forinson Vabbè Fra Fuori gioco Più che giusto Buonasera Belli Salve Oggi Oggi Vi vedo Poco Poco Coinvolti Tutto a posto Siete concentrati Su altro Che succe Il fatto che Abbiamo iniziato Alle 8 Vi ha spesati Comprensibile Simser Largo Per Nico Gonzales Amatucci Per Constantelias Bravo Raintaler Bravi Colpa Della scuola E la miseria Siamo al 3 Di ottobre Ed è un martedì Sera Tutti impegnati Ah ci sono L'Inter e Napoli Che giocano Ok vero Dimenticavo Fornison Bravo L'islandese Si appoggia Patenbup Mbup Mbup col cross Da Bernabè Che non calcia Vabbè Bravo Bernabè Ma domestica Il pallone Poi si appoggia Matteo Rover Rover Per Pedro Mendes Pedro Mendes E' imbarazzante A vuoto L'intervento Di due miei giocatori Poi lo stesso Peters Recupera Palla che vincita I piedi Costantelias Con il destro Traversa Ah è vero Molti di voi Non hanno anche iniziato L'università Oh calore Torval Buono Il pallone per Matteo Rover Rover Ancora Salta l'uomo Rover E salta un altro Rover 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 Con il destro Sul fondo L'avevano insegnato Alle Non mi ricordo Se alle medie O alle superiori O alle elementari Addirittura Forse alle medie Me l'avevano insegnato Come contavano I babilonesi Bellissimo Guai se Ah ecco Volevo dire Fischi il fallo Dopo gli dato 12 anni Di vantaggio Anche no Cambio La Vinicius Non era tipo Rottissimo Dentro Merkai Dentro Cabo Re Tutti morti Poverini Fabian Tait Allarga Permetti Torval Torval Corre Fino in fondo Il numero 93 Chiuso Dal Difensore Della Viola Io non chiedo Molto Un altro gol O per noi O per loro Però sono stufo Di pareggiare Rover Buono il pallone Per Dorval Anche se un pochettino Corto Ancora Dorval Cross in mezzo Cercare Franculino Liscia Martini Squarta Non ne approfitta Il guineano Contropiede Della Viola Che può colpire Con Iconé Il servito Largo Sulla sinistra Iconé Dentro per Costantelias La ridà dietro Pizzignacco C'è Bello il pallone Di Marvel Per Merkai Merkai Silvione Merkai Non ci credo Ribattuto Mano di Merkai Non ci credo Josip Brekalo Rosico Perché questo qua Tiro è rimbalzato Sulla mia mano Rosic Dodò Fino in fondo Dodò Bravo Marvel E vabbè Finisce anche questa Due a due Basta Pareggi Vi prego Basta Ho la pareggita Acuta Vi prego Ho la pareggita Acuta Vi prego Andiamo dal dottore Non ne posso più Siamo qui con il mister Che ringrazio per aver accettato Altra partita senza reti Tranquillo Tranquillo Lasciamo andare il mister Che ringrazia Scusi Signor dottore Salve Ho un problema La mia squadra Non sa vincere Pareggio ne basta Che faccio Cosa Decurtazione della paga Per sei mesi E certo Vabbè Grazie mille Questa non è una minaccia Non so come continuare La minaccia Questa non è una minaccia È la verità Che poi non vuol dire niente Però vabbè Mi sembrava fico Il Napoli Il Napoli mi mette in campo Beh Minchia Ma il Napoli Con Hakimi Stones Thomas Partey Ahmad Diallo Vabbè Che squadra esotica Tide Tide Bernabè Rover Devo resistere Sta partita Tra l'altro Ecco Una cosa che voglio guardare Il Napoli Ha le stesse identiche divise Dell'anno scorso Sì Mi pare di sì Che tristezza Vai Giochiamo contro il Napoli Inter benfica Per chi tifi Ma allora Tifare Nessuno È ovvio che in Italia Si supportano Le italiane E benvenuti Al Maradona Yahoo Contro il Napoli Ne prendo almeno sette E ne farò uno Se va bene Se va bene Adrian Bernabè Pfff Stronzata Victor Osimène A spazio Osimène Gran giocata Largo per Ahmad Diallo Diallo Subito in area al 10 Dietro da Osimène Chiude Koffler Bravo Pedro Mendes Ancora la ricerca Del primo gol Pizzignacco Palla lunghissima A cercare Mbup Interviene Ostigard Ma ce l'abbiamo ancora noi Mbup Niente Non l'ha presa Lo botca Per Osimène Carica il sinistro Vincendo un rimpallo Senza tocco di mano Per fortuna Dauda Peters Impazzito Impazzito Scende sulla sinistra Non avrei mai pensato Di dirlo Regà Ma quanto mi manca Patrick Nuama Lì davanti Bravo Bernabè Erroraccio adesso Del numero 3 In impostazione Ma io sto giocando Con la Vardera Titolare contro il Napoli Ma sono un coglione Io non tifo nessuna squadra Io simpatizzo Sì Ma non tifo nessuno Akimi Dentro per Ostigard Ostigard Continua a gestire Il pallone E vabbè Un po' più di schiena La prossima volta Casiraghi In profondità Cercare Issa Cabore Pallone per il giocatore Burkina Bè Che in profondità Vado delle alli Delle alli All'indietro Per Pedro Mendes La piazza Pedro Mendes Meretti In due tempi Ancora Rosyman L'uomo mascherato Si incuna Nelle di rigore Su Tirolese E si appoggia Ad Aguirre Erroraccio Però del 24 Che era Cajust Non Aguirre Mamma mia Regà Io in sta partita La vedo malissimo Bup Tocca per la Vardera Bravissimo Salvatore Dario La Vardera Scende sulla sinistra Punta John Stones Cross in mezzo Devi a John Stones Ma col braccio Era la punizione Per il piede Mancino Di Adrian Bernabè Che va al cross In mezzo C'è la testa Di Casiraghi Indisturbato Colpisce male Bravo la Vardera Che intervento E allora Patè Un Bup E' partito Un Bup Punta E salta Thomas Partey Ancora Un Bup Si gira Telealli Allarga Per la Vardera Cross Su secondo pa Che merda Frate Rafael Kofler Ci prova Al suit Si spinge in avanti Con il suo numero 28 Tight A cercare Mendes Dal limite Mendes Tiraccio La grande differenza È che Pedro Mendes Dovrebbe essere Un attaccante ottimo Per il tipo di gioco Che faccio io Bravo Casiraghi E niente Ostigard Buono 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 Tau da Peters Tocca per Caboret In avanti Delle Alli Caboret L'appoggio Per Casiraghi In mezzo Casiraghi Che deve cercare Pedro Mendes Di testa Gira benissimo Pallone fuori Peccato Pedro Bello questo Mi è piaciuto Non male Sta partita Con il Napoli Sinceramente Da una partita Contro il Napoli Mi aspettavo Molto di peggio Per ora Non stiamo andando male Ha maggior ragione Se consideriamo Che è la terza Di tre partite Partita in una settimana Casiraghi Davanti a sé Ostigard Costretto a rallentare Il numero 17 Ancora Casiraghi Tight Per Bernabè Adrian Bernabè Ancora Il numero 16 Dentro Dentro per un boop Questa raga è la posizione Perfetta Ideale Per il destro A giro Di Daniele Casiraghi Calcio Calcio potente Calcio potente Bernabè Perché non ce la fa più È cotto Casiraghi Al centro Del centro Campo Dentro Rover Mamma mia E com'è Comunque Mettere Peters E Marvel Dentro Davvero Era apparsa Una scritta Del genere Perché non l'ho Neanche vista Bellissimo Bravo Pizzi Questa è una partita Da Gollonzo O lo facciamo O lo subiamo Il Gollonzo Ma questa non può Concludersi diversamente Un boop Punta le Ostigard Ancora un boop Inciamo l'impallo E te beh Niente Questa Sento odore Di Gollonzo Nell'aria Lo sentite Il profumo Proprio di Ah yes Gol di culo Guardalo Questo è andato Di culo a me Bravissimo Cabo Rea Lasciate sul posto Il Neo Entrato La Spadone Ancora Cabo Rea Allora Spinge Appoggia tight In profondità Da Rover Pallone che non filtra Zambu Anghissà Thomas Partey In verticale Da Usimena Spazio il Napoli Per colpire Sbaglia tutto il nigeriano Marvel Con l'erroraccio Bravo Rafi Bravo Rafi Bravo Rafi Kofler Pedro Mendes Gran palla Cercare Salvatore Dario Lavardera La mette giù il tre Che poi si fa rubare il tempo Dal difensore del Napoli Buono per Osimena In area Osimena Marvel a chiudere Ancora Osimena Pizzignacco E il primo sul pallone Jack Raspadori Napoli in vantaggio Gol meritato del Napoli Gol meritatissimo Ma Non posso fare molto altro In ste partite Patenbup Per Silvio Merkai Peters Il ritorno da Merkai Patenbup Imbeccato da Merkai Ancora Zambu Pinara Dele Alli Prova a girarsi Chiude il Napoli Amaddi Allo Fino in fondo il 10 Kofler sta al centro Ad aspettare il cross Zambu Anghissa Calcia Pizzignacco C'è Dai 10 minuti 10 minuti 10 minuti 10 minuti Ho un boop Che è completamente Cotto Mia Bup Gran pallone Per Simone Davi Che fa un bellissimo Scatto Lungo l'out di sinistra Davi E intrinare Simone Spostato dalla forza Di non so cosa Tele Alli Ribattuto dal portier Non so quale forza Mistica Misteriosa Mi abbia spostato Davi Ma va bene Vabbè Un rimpallo Più fortunato No eh Di Allo Cross Il secondo Palo C'è Rover Mette fuori Dele Alli 89 sul cronometro Buono il pallone Per Rover L'imbucata Per il 18 Che salta L'uomo Di nuovo Per Merkai Silvio Silvio La parata Di Meret Che è successo Fallo Ma vaffanculo Dai Per piacere Vabbè Regaliamogliela Allora Poi voglio vedere Gli XG di sto game Perché non ha il minimo senso Napoli 1 Sul tiro al 0 Vedo che il dottore L'ha risolta Però la pareggite Non posso dire Molto Il dottore L'ha pareggite L'ha risolta Non come desideravo Ma l'ha comunque risolta Della serie Dottore Ho la febbre Come faccio a guarire Teoricamente Non è più la febbre Poi Ok Ok no Il Napoli l'ha strameritata Sta partita per gli XG Comunque 2,4 per me Io l'ho scampata Un sacco in difesa Ma anche il Napoli L'ha scampata Eh Non è Ma Patrick Nuama Per caso Ha intenzione di tornare O no E comunque vedo Che è un campionato Abbastanza strano Perché C'è Moltissimi pareggi La prima in campionato È il Milan Con l'Ellas Terzo Regà L'Ellas era Primo in serie B L'anno scorso Ma che ci fa L'Ellas Al terzo posto L'anno scorso Era in serie B Con noi È arrivato davanti a noi Di letteralmente Un singolo punto Uno Uno Non Non Boh Non comprendo No No Non è male Non sto vincendo Mi rendo conto Che non siano male Tre punti in cinque partite Però non sto vincendo Io vorrei vincere Cazzo Speriamo accada Contro l'Udinese Ma Nuama Ancora rotto Nuama È rip Ah comunque Cioè Meglio cinque partite Tenute con cinque pareggi Che cinque Pardon Non lo so Forse avrei preferito Più Una vittoria Due pareggi Quattro No Preferisco così Vuol dire che non È un segnale migliore Il fatto che stiamo perdendo poco E che comunque Le due che abbiamo perso Sono state una contro Napoli E una in simulazione Su cui non avevo controllo Non è un cattivo segnale Tutt'altro Avevo un boop A rubare palla a Lovric Un boop Eh esatto Grazie Ele Su cinque partite Ne abbiamo perse Soltanto due Che ci sta Cioè Non era L'ideale Ma ci sta Avrei preferito Vincerne qualcuna Delle altre cinque Sì Ma Mi va bene anche Soltanto averne perso Due su sette È un buon segnale La squadra c'è La squadra non subisce Così tanto Anzi Ruiz Gran giocata Torval Il primo sul pallone Invece ci arriva Lovric Pafundi Dove cazzo va Kofler Qualcuno che intervenga Bravo Torval Devo difendere in maniera Un attimino più intelligente Perché sto facendo un sacco Di stronzate Mi sa Bravissimo un boop Un boop Vaffanculo Peculiare scelta logistica Signor Dauda Lovric Prenner Col mancino Io in un campo da calcio Pernabè Pedro Mendes Ciancola Alexa Ascoli Si fa rubare palla Da Biol Sarraga Per Brenner Mamma mia Una voragine In mezzo alla difesa Di sui tiro Il Brenner Chiuso da Dorval Fallo del 93 Forse Sui tiro in 10 No Che culo Manco il giallo Mi ha dato Questa non la tratta Lovric Pfff Cabore Dele Alli Bello il pafone Il pallone in profondità Per Rover Tite Finta di tiro Allarga Per Dorval Insomma Non precisissimo Il lancio Del capitano Con l'Udinese Che prova a ripartire Con Wallace Lovric Lovric Masina Il pafone E pafone Pallone Paffundi Profondità È diventato Pafone Brenner Bello per Ruiz Gran palla Di ritorno Chiude Caboret E vince anche Un rimpallo In maniera Incredibilmente Fortunata Per lanciare Quindi il sui tiro In avanti Matteo Rover In verticale Da Dele Alli Bella chiusura Wallace Zarraga Per Marley Ache L'ex canterano Della Juventus In realtà Ex Marsiglia E Juventus Brenner In area Brenner Col mancino Pizzignacco Fuori Neanch'io Mi vedo bene Sentendo il livello Di qualità Dell'immagine Non posso farci niente Vuol dire che La tua connessione Non regge di più Bello 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 Bravo Dentro per Bernabè Bernabè Di ritorno Da Patè In Bup Cross in mezzo Deviato Angolo Bernabè Dalla bandierina In mezzo C'è la testa Di Matteo Rover Incredibilmente Non stacca Delle Alli Ma il pallone Finisce comunque Sul fondo Non si vince Non si vince Fallout Non penso Che lo porterò mai Non ho Non penso Di Matteo Rimini Qui Lovric dal limite scusate me l'ho spento un attimino fine primo tempo va bene così e di torvalla aspetta che Mbub si liberi ed eccolo qua il senegalese Mbub contro i bossè Mbub col cross non ha toccato nessuno Telealli perché non hai calciato Dele perché non di prima intenzione perché non Napoli Justin Telealli bellissimo per Rover che calcia di prima Silvestri la mezza papera e poi Rover non ne approfitta che lavoro avrei fatto boh è imprevedibile avrei sicuramente finito l'università e avrei cercato di trovare un lavoro legato a quello al mio campo di studi però al dia di quello non te lo so dire bravo Rover recupera un gran bel pallone Rover ancora Bernabè a spazio Adrian Bernabè che poi serve largo Caboret no Brenner salta l'uomo Brenner chiuso da Kofler forse con fallo evidentemente si giallo quindi per il ok figa però la scritta cartellino giallo sul colore rosso è cursata va bene no quest'anno niente vacanza al di fuori di quei pochi giorni che ho fatto a Porto Recanati è così raga Medidorval pallone per Pedro Mendes che perde subito il controllo della sfera Ruiz adesso in profondità per Brenner ok devo togliere Kofler o forse no bravo Rafi boop dentro per Bernabè che serve Pedro Mendes Pedro vaffacculo Pedro Mendes no 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 basta 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 fuori Pedro Mendes a gennaio lo vendiamo è imbarazzante Pedro Mendes imbarazzante forse è ottimo come centrale di un attacco a tre per una squadra medio alta ma in un attacco a due non serve ad assolutamente niente medio bassa non medio alta perdono bravo Pizzi Sarraga per Dejan Lovric Brenner Brenner ancora lui Ruiz c'è Peters che la tiene bravo Dauda vabbè e che ci vuoi fare bravo Job good Job niente Ruiz ancora per Brenner gran palla per Pajero Pizzignacco mamma mia Samuel che giocatore pafundi palla dentro Bellingham anticipato la mettiamo fuori vai Fabian Pate Pate corri cazzo bello il pallone per Mbup si Pate niente Franculino per Dele Alli Dele Alli ci prova col destro Dele Silvestri vola a metterla in angolo Goffler Raffi Goffler il giovane della primavera del Suttino l'ormai titolare da tre anni stacca in mezzo all'area di rigore e insacca l'1-0 per gli altoatesini Raffi Goffler è successo ha segnato ma tra l'altro che bello c'è gran colpo di testa mamma mia che bellezza mamma tra tutti quanti proprio Raffa e il Klofer tra tutti quanti proprio Raffa e il Goffler io volevo farlo segnare non vedevo l'ora e meno male che volevo toglierlo Goffler ma che bello ce l'ho fatta ha segnato Occiomo Ruiz per Wallace Wallace in profondità da Camara col destro sul fondo è finita è finita è finita spazza la prima vittoria in Serie A per i sui Tirol che sofferenza è incredibile figa il Pisa le sta prendendo incredibile finalmente una vittoria per i sui Tirol spera di sfruttarlo ma si le chiappe non guastano avete praticamente condannato cioè condannato l'Udinese all'ottava di campionato potumatch comunque è tutto grazie ancora per la sua e comunque con questa vittoria siamo tredicesimi davanti al Pisa chi è? chi è? dai non male il mio obiettivo è riuscire ad arrivare intorno al decimo posto possibilmente nella parte sinistra del campionato poi se ci scappa l'Europa tanto meglio ma non è quello l'obiettivo per quest'anno chi lo sa l'obiettivo l'obiettivo realistico è riuscire ad arrivare intorno alla decima posizione possibilmente nel lato sinistro della classifica l'obiettivo che sogno è l'Europa ma la vedo tosta e ora signori tocca alla salernitana mamma mia un saluto a tutti quanti i tivosi della salernitana allora per un attimo ci sono rimasto male perché ho letto Oilund in mezzo al campo e stavo per dire salernitana mi dimentico sempre che Oilund quello dello United abbia due fratelli che giocano al Copenhagen e quando l'ho visto lì in mezzo ho detto what e comunque 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 l'obiettivo per questa partita è far segnare Pedro Mendes minchia deve fare gol Pedro Mendes ancora a secco deve farmi gol in questa precisa partita giochiamo con la salernitana no l'Europa è tanto deve arrivare di culo io ho parlato di sogno realisticamente metà classifica sarebbe più che più che positivo che bello l'arecchi vai Pedro gran palla in realtà non per memare sì l'ho lanciata per memare ma in realtà gran palla di Pedro Mendes che serve paten bup bup per Pedro Mendes a rimorchio Pedro Mendes ha segnato il portoghese lo sblocca il suo tiro dall'arecchi dopo tre minuti di gioco sta succedendo tutto adesso ragazzi bravo bravo un bup tocco per Bernabè Bernabè in avanti a cercare delle alli che sbaglia il controllo chiude Bron Figa la sferona non si può vedere comunque non dopo averlo sbatacchiato più volte in B l'anno scorso bravo tight Pedro Mendes ancora il portoghese oggi in super palla larga per Rover Matteo Rover cross il secondo palo raggiunge Mbup chiude c'ha una Dorval per Bernabè di ritorno da Medidor Val ok ok tight per perissa Caboret Caboret col cross sulla faccia di ogni ecuro ancora rimessa peculiare scelta logistica bella la palla di Rover interviene Montero che a vederlo sembra il rigio indiociò e in tutto e per tutto anche con i capelli si così potta di chiappe si libera delle alli non riesce a chiudere a concludere Matteo Rover interviene di testa bravo Pedro Mendes pallone ancora nostro prendete il fallo prendete il fallo ma io avevo vabbè cosa stupida che devi premere due tasti dietro per prenderti il fallo ma li premi non succede niente Caboret in verticale chiude Popov in realtà è Oilund uuuu gran giocata di ogni Kuru attenzione perché sulla sinistra che in realtà per noi è la destra il suo tiro l'ha scoperto i V quei mesi cross in mezzo Castanos non riusciamo ad uscirne bravo Pizzignacco e poi Dorval bravo un bup cerca la verticalizzazione per Pedro Mendes due rimpagli a favore dei Biancorossi Dorval adesso Medidorval il ruolaccio di Dorval Bron Popov Iquemesi ancora Iquemesi fino in fondo il 22 cerca il cross chiude Caboret ma cade e allora Uniekuru bel tiro tra Bup verticalizza sbaglia tutto Oilund interviene che dischio Oilund Oniekuru va via l'uomo Caboret Inchiaus sto sbagliando un passaggio su due clamoroso Oniekuru dal limite Oniekuru Iquemesi Oh cazzo è così difficile uscire per bene con due passaggi Madò Lavorover in verticale da Dele Alli Dele a cercare Pedro Mendes posizione regolare del portoghese che poi la cicca clamorosamente benissimo sempre sul pezzo Petro E le non non pensavo fossi in grado di siumare così tanto sarà la decima volta che te lo vedo scrivere stasera tutto a posto c'ha la febbre Oniekuru su di lui Caboret che è successo? perché? perché punizione per la Salernitana? vabbè Castanos mette dentro Dele Alli mette fuori poi partiamo con un boop paten boop con il coast to coast sarebbe opportuno se Tait si sganciasse e partisse bene vai Fabian cazzo è un grosso bello di farsi operare no addirittura Bulaiedia bravissimo Kofler galvanizzato dal gol del finale della scorsa partita e poi non riusciamo a fare due passaggi in croce per fare un'azione vero? Tia buono buono fuori fuori si umite figa cronica pesa la si umite cronica il link per abbonarsi al canale non vi serve in realtà basta che clicchiate vabbè o sul link in descrizione oppure sul tasto abbonati direttamente gran figata davvero allora momento di fare can devo cambiare i metodi di allenamento vero? mi sa di sì ho questa sensazione della vega di tacco da boinen castanos della vega boinen castanos bravissimo raffi Kofler delle alli pedro mendes che riesce in qualche modo a girare da un bup ma lo fa molto male Oniekuru cross in mezzo la lisciano tutti ci siamo che brutta partita che stanno guardando i miei occhi mamma mia un bup per Dorval la tiene lì il terzino che in realtà non la tiene lì castanos ancora palla sotto per di pizzi 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 gniacco poi sotto a cosa? palla dentro non sotto cazzo dici te la vega mamma mia pedro mendes con il doppio intervento difensivo fai col contropiede Silvione Mercai per Franculino si Franculino si Franculino si Franculino si è allargato il giocatore della guinea Franculino cross il secondo palo c'è Daniliuz c'è 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 dentro Thorison e dentro Davy no eh piuttosto Davy a centrocampo di ignoranza Thorison mamma mia il giocatore islandese che scoperta buono per Pedro Mendes Pedro Mendes tocca per Mercai Mercai chiude Montero vabbè anche questa partita finisce qui questo giro non abbiamo segnato nel finale ma all'inizio ce la portiamo a casa seconda pittoria di fila mamma mia mamma mia che difficoltà quanta fatica che stiamo facendo ma attenzione attenzione perché ora dobbiamo sfidare la Roma che è soltanto di un punto davanti a noi ma ha una partita in meno quindi chi lo sa cosa accadrà ora del primo di novembre no la Roma ha vinto come non detto ritiro tutto sarebbe stato figo però Milan Juve Inter Torino quarto Napoli Ellis Bologna in Europa si si va bene tutto normale allora 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 ho un paio di domande punto primo grandissimo acquisto Timber buon acquisto Lindelof ottimo acquisto Ademola Lukman anche cioè allora grande acquisto Lukman grande acquisto Timber buon acquisto Lindelof grande acquisto Yarsabal ma poi perché giochi con Shomurodov Darbo è pagano non 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 faccio domande lo accetto e basta grazie mille finalmente sono tutti freschi andiamo a giocare contro la Roma la ripresa al Napoli bene 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 che bello ma l'audio di gioco c'è sì rigore di Zelinski il Copenaghen sta battendo il Bayern fico vabbè no mi son dimenticato di mettere la maglia rossa alla Roma e vabbè non si capirà un cazzo scusate Brais Mendes palla larga per Blanco chi minchia è Blanco non penso sia quello del Como vero bello il pallone per Pate Mbup 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 A tu per tu con Radecki Mbup 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 dove cazzo va Pate da hit angolo punizione urca tocco di mano della Roma da davvero mezzo centimetro dall'area posizione interessantissima per uno dei nostri tiratori non andrà però Bernabè andrà il capitano Fabian Tait col destro a giro sul palo alla destra di Radecki deviato peccato l'idea non era male palla per Dorval allarga cross in mezzo c'è nessuno Raffa il Kofler bravissimo Rafi che prende la mira va diretto in porta Kofler centralissimo per Radecki ma buon tentativo oddio non proprio oh Yarsabal per Shomurodov con la 10 di Totti per nulla cursata questa cosa cosa ne pensate di Shomurodov con la 10 di Totti chiedo per un amico Price Mendes ancora il centrocampista giallorosso che non riesce a fare una sega Pedro Mendes in profondità per Adrian Bernabè si è lanciato bene il numero 16 Bernabè cerca delle alli non lo trova sì quello è vero è stupido che non ci siano i numeri ritirati ce li hanno su qualsiasi altro gioco sportivo non qua a De Mola Lukman forse perché non esiste la cosa del ritiro effettivo ma è soltanto una scelta alla società di non dare quel numero non lo so però è comunque stupido Pagano Oiar Sabal l'appoggio da Ebrima d'Arbò Ape per Blanco devo andare in Bup su Blanco devo andare in Bup devo andare in Bup devo andare in Bup buono qua la 10 ce l'ha ma addiallo capore bella l'apertura Rover Dele Alli bella l'apertura dell'inglese per Matteo Rover col cross in mezzo di prima chiude Timber bravo Dele Dele per Pedro Mendes paten Bup sul fondo Cazzo Timber Marasch con Bull Tarbo Shomurodov Ademola Lukman chiude Dorval Mbup vada Pedro Mendes si è risvegliato un attimino il portoghese palla per Dele Dorval bravissimo a servire Mbup lungo l'auto di sinistra ancora Mbup palla per Dele Alli dal limite Dele deviato in angolo direi di sì e allora Dele Alli dalla bandierina adesso in mezzo c'è la testa di Pedro Mendes gran miracolo di Radecki bella parata buono per Pedro 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 Mendes tenta il pallonetto Radecki la mette in angolo la Roma sta soffrendo non è che abbia creato molto Dele Alli dalla bandierina cercano ancora Pedro Mendes che impatta ancora bene Radecki e l'arbitro la fa finire qui ma davvero ma sei stronzo chi è il troio come si chiama non me lo dice non me lo dice bastardo fate in Bup Bup punta Marasch con Bull e lo salta in Bup destro a giro sul primo palo Radecki ce la facciamo Dele Alli in mezzo da Pedro Mendes chiude la difesa della Roma è fuori è fuori è fuori è fuori è fuori buono non è Scarpulla Scarpulla è pelato raga rover tight Bernabè dal limite Bernabè prova a piazzarla un Bup regà è fenomenale io l'ho preso più bene il meme in Bup però è diventato davvero fenomenale come giocatore Bernabè prenditi il fallo prenditi il fallo un Bup come Bull l'ho già provato non è andata bravo Dele l'appoggio un Bup tutta la dalla d'Orval sì d'Orval gran pressing peccato qualche giocatore particolarmente stanco per il momento no per il momento no oi Arsabal Shomurodov Pagano palla per Roi Arsabal si incune neri di rigore numero 8 che sbaglia però tutto allora Bernabè prova a far ripartire il sito ma sbaglia Shomurodov pizzignacco pizzignacco Mendes tocca corto da Demola Lukman salta l'uomo dentro da Shomurodov 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 eh no tocco di mano di Rover non ci voglio credere ah no sì che è hanno fischiato il rigore alla Roma ma non ho capito il perché che è successo quando come dove Shomurodov si gira e calcia la palla sbatte sul ginocchio di Dorvale poi tocca la mano di Rover e allora Yarsabal contro pizzignacco incrocia Yarsabal vantaggio Roma immeritatissimo bravo un boot si chiudono tanto dietro faccio faccio fatica a trovare il modo di passare vabbè da cosa è stato spinto Bernabè cerca un boot gran chiusura di blanco allora fuori in boot dentro Franculino fuori Mendes dentro Merkai fuori Bernabè dentro Bellingham che è cotto e va bene dentro anche Thorison per Rover che non ce la fa più Shomurodov palla per Yarsabal gran giro palla della Roma che va a conclusione e niente anche meno il pressing cioè io non vorrei dirtelo ma che cazzo te ne fai a pressare Dorvalda solo in un angolo se poi nessuno ti dà man forte Pellingham subisce fallo da Darbo Koffler Peters almeno il pareggio qua voglio almeno il pareggio bellissimo il pallone di Versa Valper Shomurodov ancora Shomurodov Pera demola Lukman in area Lukman fino in fondo calcia pizzignacco c'è 88 sul cronometro è il momento di fare l'azione decisiva che ci porterà al gol fammi battere l'angolo fammi battere l'angolo grazie arbitro tutti su anche pizzignacco dov'è pizzignacco delle alli dentro a cercare in mezzo la testa di francolino ribatte l'estremo difensore della roma e la partita finisce qui che sfiga allora prima mi sono allora sicuramente prima mi sono portato a casa dei pareggi immeritati ma questa qua è una sconfitta immeritatissima eppure hanno più xg loro di questa cosa non me ne capacito perché non ricordo un buon tiro della roma al di là di quello con cui hanno fatto gol che tra l'altro attenzione attenzione patrick nuama ristabilito è tornato dall'infortunio ok Ok, Nuama deve tornarmi però un attimo in forma, eh. Silvione, mi spiace, ma il tuo momento di fare il panchinaro è finito. Il Sassuolo, clamorosamente, mi sembra avere una squadra proprio da Sassuolo. Ci sta, giochiamo con i nero-verdi. Ci sta alla grande. Che ore sono? Ah, sono già le dieci e mezza, raga. Mi sa che io oggi tiro un attimino più lungo, visto che ho iniziato un'ora dopo, ma non so quanto più lungo. Va che bello il MAPEI Stadium di Reggio Emilia, cazzo. Dieci contro dieci, un bup contro Berardi, mamma mia. Un bup. Dovente a sé vi dual, gli va via, un bup. Come cazzo si chiama il mio giocatore? Pedro Mendes, di testa, bravo ad appoggiarsi a tight. Che però perde palla, seide. Buono, rover. Per Bernabè, sbaglia Bernabè. Regalo incredibile. Lo so che c'è scuola domani, allora. Io mica ci vado. Buono il pallone, Dorval. Pedro Mendes. La piazza Pedro Mendes c'è turati. In due tempi. Avrei dovuto fare qualcosa di più. Dele Alli, buono il pallone in profondità per Matteo Rover che si gira. Torna indietro. Da cabore. Per Nabe. Eh, insomma, Adrian. Torchvet. Bravo Peters, bravo Peters. Bravo Dauda, bravo Dauda. Buonissimo il pallone di Peters per Rover che va a cercare delle Alli. Rover, ragazzi, è spento in questa stagione. Non so che gli sia preso. Comunque, allora. Fino alla scorsa live vi avrei detto sì, un botto di rigori. Davvero troppi. In realtà io in questa partita, in questo campionato di Serie A ancora non ho dovuto tirare uno. E ne ho subito soltanto uno contro. Quindi, boh, avranno fixato un po' sta roba. Gran scatto di Torval che vede partire Pedro Mendes. Pedro Mendes, fuori gioco. Fuori gioco. Grazie. Bravissimi. Bernabè. Cerca Pedro Mendes. Finciamo un altro l'impallo. Ma dove cazzo andiamo? Ma per favore. Ma cosa sto facendo? Ma perché? Eh. Scusatemi. Ho assolutamente bisogno di vedere come ha contorto il corpo il buon Matteo Rover. Mi sembra di aver visto il corpo di Rover muoversi in maniera completamente innaturale. Fa vedere. Ah. È certo. Tutto nella norma. Tutto nella norma sto controllo. Va bene. Mamma mia. Questo, raga, è il territorio perfetto per il piede destro di Samuel Pizzignacco che ci prova col destro desterno a superare la barriera. Vai in porta Pizzignacco. Troppo facile per Turati. Ora corri, Samuel, ti prego. Vabbè, è il stupido Turati che non è approfittato. Buono Dele, buono Dele. Bernabè. In profondità a cercare Matteo Rover. Controlla male il pallone. Ma poi scaglia un sinistro al full micotone. Sotto la traversa della porta difesa da Turati. Su, tiro l'invantaggio al MAPEI. E meno male che era in crisi, Rover. Stop di testa, palla sul mancino, botta all'incrocio. Mamma mia, dove l'ha messa Matteo Rover? 1-0 su Tirol. Come si dice dalle mie parti? Eh, ne ho vinte ben due di partite. Primo gol in Serie A per lui. Bravo Matteo, ora spero che tu vada a segnarne molti altri. Capore. Petro. Bello però, per un boop! Turati la tocca in angolo. Sinceramente non ho guardato il pallone d'oro. Bernabé. Buono per il mezzo verso Dele Alli. Chiude la difesa del Sassuolo. Taiti, il primo sulla palla. A cercare ancora Dele Alli. Fuori. Va bene. Sinceramente non ho guardato. Qualcuno. Ovviamente i soliti Mbappé, Holland e pasta. Ablin. Tocca per Berardi. La gran giornata di Berardi. Di ritorno da Ablin. Seide. Tocca corto per Torosvetta. Torosvetta. Bravo Peters. Sto soffrendo un sacco, comunque. Cioè, va bene così. Perché almeno mi dà la possibilità di fare azioni. Questa è una buona via di mezzo. Vi confermo che questa qua è una buona via di mezzo con gli slider, comunque. Perché mi consente lo stesso di giocare senza schiacciarmi in difesa per tutto il game. Ma le partite non finiscono tipo 8-3. Buono intanto. Matteo Rover che si libera ed entra in aria scagliando il destro. Aveva solo bisogno di sbloccarsi. Raddoppio per la doppietta di Rover. Il contrario, ma va bene uguale. Sì, Manu. Sono nel video a una certa. Non ricordo dove. Dopo le metto a schermo. Di fatto va ad aumentare l'errore di qualsiasi cosa. Tiro, passaggio, tocco di prima. E aumentare l'abilità del portiere. E... Ok. La marcatura. No, no, ma... Ce l'ho, tipo... Non ricordo a memoria. Ah, ma basta che faccia così. Che cazzone. Errore tiri 71. Errore passaggi 65. Abilità portiere 65. Marcatura 70. Errore tocco di prima 75. Lo fai sia per CPU che per l'utente. Spaglio o il gioco si è incredibilmente desaturato senza alcuna ragione? Perché non mi sembrava così poco saturo due secondi fa. Strati assorte 40. Profondati vincitori. Vabbè. Berardi. Domenico Berardi. Si allarga. La ricerca di Zaruri sulla sinistra. Bravi, ragazze. No, ma allora... Si è desaturata soltanto questa partita? A metà partita? O in generale... A meglio... La desaturazione è avvenuta a metà game? O è così dall'inizio? Perché non mi sembrava. Oppure lo fanno contro Sassuolo? Perché la maglia verde si è rendita tutto saturo e non si vede una sega. Che è possibile? Mamma mia, Rover. Che giocata. Ricerca di Dele Alli. Che va in profondità. Serve Pedro Mendes. Pedro Mendes. Pedro Mendes col destro. Bello, Pedro. A metà partita? Eh, allora, vedi. Lo scemo... Vabbè. Regà, è il momento. Patrick Nuama scende in campo di nuovo. Dopo sette mesi di infortunio. E poi basta. No, no. L'ho già vinto un paio, regà, di partita. Torch red. Buono il pallone per Sanchez. Sulla sinistra il numero 20. Palla in mezzo. Ribattuta. Ancora Sanchez. Che calcia col sinistro. Pallone altissimo. Caboret manda al bar. Zaruri. E poi si allarga. La ricerca di Matteo Rover. Perde palla Rover adesso. Zaruri ancora al 19. Pericolo costante. Per un sottile che subisce in gol stupido da Berardi. Mamma mia, oggi non so commentare. Vi chiedo scusa. Oggi ho la testa ovunque, tranne che concentrata sul commentary. E o sul gameplay. Sono completamente rincoglionito. Oggi non è giornata per il commentary. Comunque 2-1 Sassuolo con un gol stupido di Berardi. E Nuama tocca il suo primo pallone dopo l'infortunio. Bentornato Patrick. Bravo, Bernabè. Mette a cercare la testa. Dean Boop. Van Boop davvero il mio miglior saltatore. Vabbè. Perardi. A cercare Maxime Lopez. La mette giù il numero 8. Che poi allarga in direzione di Sanchez. Di nuovo di ritorno da Maxime Lopez. Ancora il numero 8. Bravissimo Dauda Peters. Bravo, Pedro. Devo togliere Pedro Mendeci a cotto. Allora. Fuori Pedro dentro Franculino. Fuori Caboret. Dentro Davi. Dentro Marvel per Peters. E dentro Thorison per Mbup. Torstvet. Phillips. L'apertura per Sanchez. Può cercare il pareggio Sassuolo. Adesso in questi ultimi minuti. Zaruri. Gran stertata in area. Zaruri. Pizzignacco. Bravo, Samuel. Domani è ancora carriera. Sì. Berardi la bandierina. Bravi a mettere fuori. Invece no. L'abbiamo tirata sul braccio. Di Marvel. E allora dal dischetto va Mimmo Berardi. Che apre Pizzignacco. Samuel Pizzignacco. Col suo primo rigore parato in A. Davi. A cercare Nuama. No, non riesce a ridargli. Torstvet. Per Berardi. Pizzignacco ancora. Tutti superi in Sassuolo. Compreso Turati. Palla in mezzo. Mettiamola fuori. Bravo Marvel. Rover arrivaci. Non ci arriva Rover. Zaruri. Buono. Minchia oh. Minchia oh. Bravi. Kofler spazzala. Fuori gioco Diablin. E invece no. E invece no. Berardi la pareggia al 94esimo. Con due minuti di recupero. E vabbè. Che turbo ci vada. Due a due Sassuolo sui tiro. Parecchio rosicante. Parecchio rosicante. E vabbè. Questo ci può anche stare. Comunque il Sassuolo ha meritato il pareggio. Però sappiate che rosico parecchio. E mo' partita contro Lecce. Allora. Il Lecce è ultimo. Quindi sapete cosa si fa contro l'ultima in classifica? Rullo di tamburi. Oh. Simula veloce. Call di Kaba all'ottantesimo. Sconfitta anche contro Lecce. Le simulazioni fanno schifo quest'anno. Devo evitarle. Come la peste. E vabbè. Comunque periodo non proprio meraviglioso. Per i biancorossi. Che però sfidando la Lazio. In caso di vittoria. Gancerebbero i bianco celesti all'undicesimo posto. Ridicolo. Ma gran figata. Come stanno le posizioni su in alto? Abbiamo il Milan primissimo. Juve seconda. Inter terza. Roma quarta. Ellas e Toro in Europa League. Col Napoli in conference. Secondo questa classifica. Tutto nella norma. Il Verona fa mezzo schifo. L'anno scorso non è che lo battevo 4-0 regolarmente. Hanno Montipò. Giocano con Iazici, Ingonge e Bo. Henry. Hannombula sulla destra. Saponara sulla sinistra. Che però non gioca. Gioca Unglada a centrocampo con Dottor. Heida, Davidoviz. Rual. E Doig. Ma è che è bella squadra da quarto posto. E comunque. Caio con 9 gol in 10 partite per la Juventus. Mamma mia che cosa bella da vedere. Mamma mia che squadra che ha la Lazio. Hanno Botman in difesa. Hanno Malasia a sinistra. Copminers a centrocampo. Castellanos punta. Isaacs in a destra. Hanno Chessi in panca. Talles Magno in panca come Tavares. Perché la Lazio ha solo 15 punti in campionato? Non ha il minimo senso sta roba. Andiamo a perdere. Non ho guardato le divise. Forse stiamo giocando azzurrino contro bianco e non si capirà una sega. Ah no. Giochiamo azzurro contro rosso. Perfetto. Bravi. Ultimamente abbiamo avuto parecchia sfiga. Cioè perché contro la Roma... Contro la Roma... Meritavamo la vittoria. Contro Sassuolo avremmo meritato... Non dico la vittoria. Forse il paletto ci sta. Il Lecce simulando è data male. Patenbup. Buono il pallone per Medi Dorval. Dorval punta l'uomo e lo salta. Dorval dentro per Pedro Mendes. Pedro Mendes. Adopertù. Comprovedel. La piazza Pedro Mendes. E poi il rimpallo va a favore dei bianco celesti. Castellanos allarga per Tyrell Malassia. Di ritorno da Castellanos. Chiusura perfetta di Peters. Vabbè. Regaliamo. Vediamo un po' di più sta palla. Mi raccomando. Ma sì. Pure i rimpalli. Va bene. 1-0 Lazio. Certo. Certo. Il rimpallo a loro va perfettamente sui piedi. Il rimpallo a me finisce dall'altro lato del campo. Si è sminchiato qualcosa comunque. Non ci credo. Non, 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 non. Sembrano due giochi diversi. Quello che ho giocato giovedì e quello che sto giocando oggi. Buono. Bravo Pedro. Per Dele. Beh, tentativo. C'è da dire che sono cambiati i rivali. Però. È vero che sto giocando contro una competizione decisamente più tosta rispetto a quella della serie B. Mi pare comunque di essere un po' troppo in difficoltà. O comunque un po' troppo bullshittato in alcuni casi. Pedro Mendes. Buono ad allargare per Patenbup. Di ritorno. Dele Alli col destro. Pareggio sul tiro dall'Olimpico. Bravo Kofler Frizzaxen. Mia. Che culo. Esce pulitissimo Bernabè. Poi sbaglia la verticalizzazione però per Pedro Mendes. Castellanos. Per Isaksen. Lo tende Dorval sulla fascia. Isaksen va via Dorval in velocità. Ancora Isaksen. Lo tiene dentro clamorosamente. Ah, non è fuori gioco giustamente. Non era fuori gioco quello. Comunque. Mamma mia. Diego Laxalt è stato un colpaccio comunque. Con l'Offenheim. Dorval. Mbup. Patenbup. Accelera e parte. Dentro il pallone per Pedro Mendes. Pedro Mendes alla ricerca di Dele Alli. Sbaglia tutto quanto il portoghese. Toma Bajic. Si avvicina l'avversario. Bajic dentro il pallone. Chiude Dauda Peters. Dove cazzo stava Caboret? Vabbè. Ancora Caboret. In verticale a cercare Fabian Tait. Si è lanciato il capitano. Fabian Tait. Da posizione defilatissima. Vola Provedel. A caso Tait. Bernabè ora dalla bandina. Cercare in mezzo Kofler. Esce facile Provedel. Morto Lucas Vazquez per loro. Gran contropiede della Lazio che può colpire. Ora con Castellanos. Castellanos ancora. Bravo Kofler. Però un altro in pallo favorisce. Ah la formazione. Capitolina. Ci siamo dai. 1-1 dopo il primo tempo. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. L'overo al base di Dali Aldi è un 75. Qua è un 79. No va bene così però no. Mamma mia. Pedro Mendes. Che giocatore. Messo giù. Fallo. Tait. Cross in mezzo sulla punizio. Ma perché è rimasto fermo Kofler? Perché è stato montato da un difensore della Lazio. Ma quello non è fallo. Cioè se io non riesco a saltare è perché mi saltano in groppa. Non è fallo. Forse non dentro l'area di rigore perché sarebbe un po' lame da era un rigore per quello. Però. Signor arbitro. Se posso permettermi. Cabore. Trova Rover con le mani. Di ritorno poi per il giocatore Burkina Bay. Che scende sul lato di destra. Botman interviene. Sì farò un altro paio di partite raga. Rover. Bello in profondità per Cabore. 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 Frate non era quello che volevo fare. Dele Alli. Patè in Bup. Bravo Patè. Mi è piaciuto. Coppa Italia devo ancora iniziarla tra l'altro. Forse sarebbe il caso di simulare qualche game dopo questa. Anche perché non so quanto potrebbe durare la stagione. Non penso di volerle giocare proprio tutte quante le partite. Copp Maners. Primo pallone toccato dal numero 14. Largo per Tales Magno. Tales Magno. Ancora in area al 10. Tales Magno. Palla dentro per Castellanos. Pizzignacco chiude. Abbiamo rischiato di prendere gol in sei modi diversi. Bravo Rover. Bravo Matteo Rover. Dentro a cercare Dele Alli. Dele Alli a tu per tu con Provedel. Dele Alli dietro. Pedro Mendes col mancino. Ci arriva Provedel. Mbup. Il primo sulla palla. Bravo Patè. Bravo Patè. Bravo Patè ancora Provedel. Miracoloso. Fuori Pedro Mendes. Dentro Nuama. Fuori Mbup. Dentro Franculino. Fuori Tales. Dentro Bellingham. Però la va bene così. Allora. Oh lele. Vabbè non mi apre l'elenco. Vabbè per la merda di calcio d'angolo. Castellanos anticipa a mezzo. Difesa del Sudtirol. Poi errore della difesa della Lazio. Bellingham a cercare Bernabè. Chiude la difesa della Lazio. Ancora Joe Bellingham. Cambio di gioco. Da Franculino. Bravo Franculino. Gira palla. Joe Bellingham. Peccato. L'idea c'era. Voleva essere per Rover. Che però mi sembra che è partito in fuori gioco. Erroraccio loro. Erroraccio loro. Patrick Nuama. Patrick Nuama. È tornato Patrick. È tornato il mio bambino. Patrick quanto mi eri mancato. Maro. 2 a 1 su. Erroraccio di Tyrell Malasia. Che regala il pallone. A Matteo Rover. Perché vede Nuama. Il quale controlla. E tira. Alle spalle di Provedel. Primo tiro in porta. Dopo l'infortunio. Segna. Che bella storia. Che bella storia. Quella di Patrick Nuama. Comunque io in questo momento. Ho due centrocampisti come punte. Meraviglioso. Franculino adesso lanciato. Da Bernabè. A spazio. Franculino glada giù. Franculino. Provedel c'è. Peccato. Erroraccio di Franculino qua. Patek Nuama. Bernabè. Peccato fosse passato quel pallone. Potman. Castellanos. Apre da Isaacs. Se non facciamoci fregare qui come contro lo Sassuolo. Pallo secondo palo. Talles Magno. Talles Magno. Da Castellanos. Ribatte Kofler. Mettiamola fuori. Teniamola fuori. Lazio 1 su tiro al 2. Agganciato in classifica peraltro. Il che top kick. Tredicesimi con 15 punti. Differenza reti meno 1. Vi dirò. Vi dirò. Niente male. Tra l'altro una delle migliori difese del campionato. È tipo la settima, ottava. Cioè. Oh. Ci sta. Ci sta. Allora. Le prossime partite contro chi le dobbiamo giocare? Abbiamo il Genoa e poi la Juventus, il Como in Coppa, il Torino, l'Ellas e l'Inter. Ok. Per concludere la live io vi direi. Simuliamo veloce contro il Genoa. Giochiamo la Juventus. Simuliamo lento il Como. Simuliamo veloci Torino ed Ellas. E poi giochiamo con l'Inter e chiudiamo. Quindi vai. Schippa diretto la partita contro i bianconeri. E battiamo il Genoa 2 a 1. E il Genoa è stato battuto 2 a 1. Bello. Molto bello. Fa vedere i messaggi. Chi è che rompe il cazzo? Det�asta di Ledex. Coach. Bello. Quindi hispите. ui. Ho! Perché sono stati? Non? Mamma. Vitt capito. Ho! Ho! Vitt capito. Ho! 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 Thiil kullanzco. Delle Alli che cresce ancora, comunque imbarazzante. Ok. Bravo Kofler che continua a crescere, bravo Rafi. Va bene. E comunque con la vittoria contro il Genoa siamo riusciti a raggiungere il decimo posto. Bellina come cosa, bellina. Siamo attualmente a meno 5 dall'Europa, vi dirò, vi dirò. Non è così irraggiungibile. Che formazione sgangherata che ha la Juventus, perché giocare con un 3-5-1, pardon, un 3-5-2 che però vede chiese sulle fasce. Insomma. Regà, è il momento di affrontare per la prima volta in questa carriera i bianconeri, la Juventus. Che schiera una buona squadra. Ma anche noi non siamo da meno. In realtà siamo da molto meno, però facciamo finta di no. Poi contro il Como metto in campo un po' di riserve. Già, vi avviso. Pedro Mendes, non riesco a farmelo piacere. Vi giuro, mi sta facendo proprio cacare. Signori, eccoci qua. Si comincia. Benvenuti all'Allianz Stadium di Torino. Va che bellezza. Questi giocano con Enzo Parrenecea, capitano. Non so se ci siamo capiti. Subito un boop a causare panico nella difesa della Juventus. Bernabè, la piazza Bernabè alta. Che inizio sprint al sui tirol. Perché hanno giocato a Como-Brentford? Così, infrasettimanale, a caso. Che è quel simbolino accanto al nome di chiesa? The fuck? Badenbup. Bup. Vede lo scato di Pedro Mendes. Inservito sulla corsa numero 90. Lì entra. Calcio in porta. Mendes. Scesni in angolo. Bernabè. Palle in mezzo, c'è la testa. P di chi? Peters, l'ex di turno. L'appoggio da Fabian Tite. Che va a cercare Dele Alli. Matteo Rover. Rover. Rientra sul sinistro. Calcio in porta Rover. Un po' storto. Però la Juventus lo stiamo mettendo sotto, eh. È il suo playstyle, quello. Ok. Va bene. Perché c'era lui e gli altri, no? Questa è la mia domanda adesso. Perché non tutti i giocatori hanno un playstyle. Perché sta cosa? Faccio domanda. Chiesa. Va via Caboret sulla fascia. Viene su di lui Dauda Peters. Bella chiusura. Mamma mia. Che giocata di Caboret che va a servire Rover. Matteo Rover. Davanti a sé. Chiesa. Va via in velocità Matteo Rover. Cross sul secondo palo. Un po' troppo sotto. Oh, non stiamo giocando male. Sarà che la Juventus schiera tutte le seconde linee. Ma non stiamo giocando male. Gonzales. Perranocchia. Parrenecea. Caio. Buono. Bello il nostro giropalla. Paten Bup. Bup. La chiusura di The Winter. Regà, non potete rispondere perché Allegri. Allegri non esiste in sto gioco. Cioè, esiste ma non ragiona. Come. E, 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 e. Cazzo. Tutti gli anatori ragionano uguale. Bernabè. Cross per nessuno. Te le ha lì. L'ho vista entrare. L'ho vista entrare. Pedro Mendes largo di testa. Da Matteo Rover. Dele Alli. Dentro di torno per Rover. Rover. Da Capitan Tite. Capitan Tite. Primo gol in Serie A per lui. E arriva all'Allianz Stadium. Fabian Tite. 1-0 sul tiro. Il capitano col piattone sinistro. Mamma mia. Che giocatore Fabian. Posso dirlo? Meritato. La Juventus non l'ho neanche vista. Finora meritatissimo comunque il vantaggio. Sule per Vlaovic. Prova a servire Caio Bernabè con la chiusura. Ancora Dele Alli a imbeccare Rover. Indisturbato Rover. Prova col destro. Gran merda. No, non è fallo. Era già a terra. L'ho toccato quando era già a terra. Non può essere fallo, arbitro. Sarebbe l'equivalente di sparare ad un cadavere. Al massimo inquinamento delle prove. Ma non è mai... Non è mai omicidio se sto sparando a un morto. No? Chiesa. Dentro per Caio. Caio. Bravo. Cofre la chiudere. Ranocchia. Si gira Ranocchia. Prova al destro. Ribattuto la difesa. Non usciamo. Invece sì. Torval. Lungo a cercare Mbup. Fate Mbup. Via Sule. Ancora Mbup. Fino in fondo il 10. A cercare mezzo il pallone da Matteo Rover. Peccato. Tite. Per una... Fine primo tempo. Bene, 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 bene. Guerra. Per Sule. Tevinter. 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 Blaovic. Da Barrenecea. Di prima. Da Caio. Caio col destro. Rimessa laterale. Bellissimo. Fra. Errolaccio. Errolaccio. Errolaccio di Tite. Barrenecea. Per Gimaraes. Sule con il destro. In area Sule. Ancora Sule. Va via Kofler. Pizzignacco impegnato. Che risponde anche e presenta la grandissima. Ora vai col contropiede. Pedro. Bello. Per Mbup. A te Mbup. Dentro per Dele Alli. Dele Alli. Dal limite Dele. Facile. Facile, facile questa Prescesni. Una nocchia. Facciamo dei cambi. Ma con Leccio ho simulato rapido purtroppo. Va così. Fuori Mbup. Dentro Franculino. Poi. Cos'altro possiamo fare? Possiamo. Dentro Nuama per Pedro Mendes. O per Dele Alli. Fai così. Dele Alli arretrato a centrocampo. Nuama Mendes davanti. Tite si merita la standing ovation. A te o Rover. Rientra sul mancino. Rover invece calcia col destro sul primo palo. Scesni presente. Attento. E in zomma. In zomma. La Juventus non la vedo proprio brillantissima. È Bruno Ghimaraes. Verticalizza da Vlaovic. Barra in Ecea. Grande apertura per Chiesa. Ecco l'ho detto. L'ho chiamata. Chiesa. Mamma mia. La chiusura di Cabo Reda è pulita. Calcio d'angolo. Sule. Tocca corto. Da Chiesa. Tenta l'intervento assassino. Mano. Mano di Patrick Nuama. Rigore per la Juventus. E direi che ci sta. È giusto. Oddio. Insomma. L'ha preso sul coppino. Vlaovic contro Pizzignacco. Spiazzato Pizzignacco. Pareggio Juve. Decisamente immeritato. Posso. Un po' come contro la Roma. Sti maledetti rigori per tocchi di mano. E che contro la Roma c'era. Qua no. Cabo Reda. Bernabè. Serve Rover. Ancora Cabo Reda. Pedro Mendes. Non riesce a far passare il pallone da Nuama. Chiesa. Bravo Cabo Red. Con calma. Con calma. Cabo Reda. Sventagliata. Cambio di gioco. La ricerca di Franculino. Gluda giù. Nuama. Dentro. Per Bernabè. Da Pedro Mendes. Non avrei dovuto. E che io cerco sempre il gol facile. Minchia. Che quest'anno i gol della merda non te li fanno fare. E grazie. Per l'abbonamento. Per l'abbonamento Pepe Gotti Premium. Un bacione. Benvenuto tra noi. Buon uomo. Chiesa. Fino in fondo. Chiesa. Resista la carica. Bravo Dele. Nuama. Bernabè. Bernabè. Per Franculino. Gran palla alla ricerca del guineano. Ancora Franculino. In area. Franculino. Nuama. Perché? Perché? Perché sto giropalla extra? Stupido e inutile. What? Che fanno Melina questi mo? La salita la volpiana. Ripartono con calma. Dal portiere. Bravo Torval. Bernabè. Perde le alli. Nuama. L'apertura per Franculino. Benissimo. Dentro. Pedro Mendes. Pedro Mendes. Scesni. Dele è tutto nel tuo piede destro. Mettimi un bel cross. Alla ricerca la testa di Pedro Mendes. Anticipato. E niente. Finisce così. Che rosicata. Juve 1 sul tiro l'uno. Avremmo meritato infinitamente di più. Infinitamente di più. Fatemi vedere gli XG. Perché qua sarà tipo 4 a 0,8. No. 1,5 a 1,4. Come, dove, quando, perché, è. Bah. Tra le due squadre quella che esce deluso da sto game siamo noi. E di certo non la Juventus. Parliamone. Parliamone. La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni. Bravo Fabian, che giocatore. Abbiamo finito. Grazie del suo... Allora. Detto questo, regà, io mi sa che mi dimangio quello che ho detto prima. E quindi contro l'Inter non giocheremo oggi, bensì domani. Ma, prima di arrivare alla partita con l'Inter, simuliamo Como. Simuliamo Como in Coppa Italia, Torino e Dallas Verona. E tra queste, magari, il Como è l'unica che è simulolenta, perché se c'è da entrare in campo, entro. Ovviamente, in campo tutta la formazione di riserva, qua. Dentro la Vardera. Dentro Davi. Dentro Tite Bellingham. Dentro Casiraghi. Anzi, no. Casiraghi qua. Un Boop a sinistra. Franculino a destra. Punte. Nuama Merkai. Un Porta Drago. Ok. Eh! Mi sono tirato una botta al capione, sono spaventato. Contro il Como simuliamo, perché in Coppa Italia non si sa mai. O meglio, non voglio rischiare di venire cacciato fuori di nuovo in maniera stupida. Ma Bernabè è fortissimo, raga. Bernabè rimane fino alla fine. Chi è il mio Pirletta con la maglia 44? Ah, no! In questa visuale cursata sono loro quelli di rosso. Va bene. Ma io sto giocando con Casiraghi, centrocampista centrale. Vabbè, peculiare mossa logistica. Sta funzionando per ora, no? Ciao, Camarra! Stai, amore mio. Bravo, Giacomo Drago. Bravissimo. Nuama è già cotto, raga. Ce la farà a Patrica reggermi fino... Fino al novantesimo? Casiraghi. Largo per la Vardera. Ancora Casiraghi. Nuama... Nuama non riesce a calciare. No, si è rotto Bellingham. Si è rottissimo Bellingham. Sono senza un centrocampista. Oh, cazzo. Cos'è che ho detto a inizio live? No, regà. Non mi muoverò sul mercato a meno che non si faccia male un centrocampista. Tiè! Ho bisogno di muovermi sul mercato, va bene. Che rosicata, marò. Come faccio a giocare soltanto con quei due? Niente, regà. Si interviene sul mercato per forza. Vado a prendermi anche valoti a zero, eh. Nessun problema. Dai, Patrick. Reggimi almeno ancora un'altra trentina di minuti. No, magari non svincolati in momento, ma se trovo un centrocampista semidecente, tipo Jeremy Bro, che mi venga a fare da riserva, lo prendo volentieri. Palo di Merkai. Palo ancora di Merkai. Non ci credo. Due pali nell'arco di tre minuti. Bravo, Davi. Thorison. Per Bernabè. Lungo a cercare Davi. Di ritorno da Bernabè. Dalla, dalla, dalla. E niente, l'ha persa. Toglimi Nuama che non ce la fa. Nuama mi sta schiattando in campo dentro l'over. L'over ha un'ottima stamina. Ma in caso di pareggio in Coppa Italia ci sono i supplementari o si va diretto ai rigori? Non ricordo. Bello per Davi. Bello per Davi. Cross in mezzo non c'è nessuno. Franculino. Merkai non riusciamo a concludere. Ancora noi, ancora noi, ancora noi, ancora noi, ancora noi. Bernabè. Buono il giropalla. Merkai. Cazzo, Silvio. Bravo, Thorison. Niente. Guarda che ci segnano all'ultima azione. Guardate che mi tocca rosicare di nuovo per colpa del Como. Invece no. Bravo, Reintal. Er. Ok, sì. E niente. Supplementari dopo i due pali di Merkai che non hanno portato a nulla. Non voglio far scendere in campo i titolari, se possibile. Drago per ora non sta giocando male. Importa nel senso. Non ha dovuto fare niente, però meglio così. Resistetemi dieci secondi che finisce il tempo, il primo tempo. Angolo Como al minuto numero centocinque. Dalla bandierina Andrada Cugna. Pallone ad uscire. Mettiamo fuori. Raga, vi prego. E ovviamente. Ovviamente. Gol di Cerri. Ovviamente. 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 Davvero aveva il portiere? Non l'ho neanche notato. Come maledetto le simulazioni lente ancora più maledette di te. riuscirà il nostro campione. Non riesco neanche a toccare palla. La stanno gestendo divinamente. Ma guardali. Ma guardali. Ti prego. Bravo Marvel. No, vabbè. No, vabbè. Ma regaliamogliela allora. Diciamolo che devono passare loro. Bravo Drago. Uno a uno. Dai Silvione. Dai Silvione. Facciamoli rosicare di brutto. Vai Mbup. Bravo Patè. In area Patè. Dentro da Rover. Sempre. Ancora Mbup. Scusa, non posso scegliere io l'ordine dei tiratori? Ma da quando sta stronzata? Vabbè. Rover in sacca. No! Non è vero. Palo palle. Hernani. Bravo Drago. Bernabè apre. Uno a zero. Cutrone contro Drago. Uno a uno. Franculino. Fuori Franculino. Tacugna. Ah! Vantaggio Como. Silvio Mercai. Bravo Mercai di potenza. Cherry. Oh mio Dio. Mbuppa sui piedi un pallone decisivo. Mbuppa. Porca troia che sfiga. L'aveva anche angolata bene. Vigorito man of the match. Siamo fuori dalla Coppa Italia. Eh vabbè. Proprio sul palo fortissimo. E il Rosic prosegue. Molto bene. E vabbè. Dai raga. Ultime due partite di serata ci ribecchiamo domani prima della sfida contro l'Inter. Il Toro ci rifi... Il Toro ci batte 4 a 0. Con l'Ellas vinciamo 1 a 0. Poteva andare nettamente peggio dai. Ok. Cofre era già tornato. Bellingham solo due mesi. Ho comunque bisogno di un difensore. Di un centrocampista. Ah va bene. E quindi splendori. Dopo 17 giornate di campionato. Il nostro Suttirole è attualmente undicesimo in classifica. A meno 6 da uno slot europeo. E ha esattamente più... Eh vabbè. Più 13 sulla zona retrocessione. Da quel punto di vista stiamo tranquilli. Però l'Europa. Visto questo campionato un po' bizzarro. Meh. Meh. Perché no? Unica cosa... Avremo bisogno del centrocampista. Perché non possiamo andare avanti così. Agumè è cresciuto. E quindi ora ci costa un fottio. Sissoko... Vabbè. Minchia Andurra... Eh Andurra... È un buon giocatore ma non lo voglio. Giusto per curiosità. Agumè. Ciao Inter. Sono sempre io. L'allenatore pelato senza neanche un centesimo. Eh... Posso offrirti pochi soldi? Mi hanno detto attaccati al cazzo. Perfetto. È cresciuto il suo valore però. Perché posso già offrire un precontratto a bro? Eh? Ma siamo a dicembre. Ma che cazzo? Eh... Sono confuso. Lo scopriremo domani. Però Mattia Valotti è ignorante prenderlo per tipo davvero due mesi e poi darlo via. Vabbè. Regà. Salviamo e ci vediamo domani. Allora. Regà. Grazie per la compagnia. È stato un piacere. Ci vediamo domani sempre alle 7 qui in live su YouTube. Ricordo a tutti voi di smasciare like e iscrivervi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ma già ve l'ho chiesto. Se volete recuperare spezzoni di questa live, a meno che non siate abbonati, lo potete fare tra due giorni su Tearless Live. Se rimanete in live ancora due secondi, tempo che la chiudo, verrete rimandati direttamente a live di domani per la quale potete attivare la campanellina, ok? Perfetto. Dai. A domani. Ciao belli. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.